Noi non ce l'abbiamo un piano B, ma non è perché pensiamo di non fallire, è che io sono troppo concentrata a far riuscire il piano A. Benvenuto nel Bazar Atomico, un podcast per imparare di tutto, da chi ne sa più di tutti. Mistici, scienziati, imprenditori eroici, maghi, filosofi, esploratori e artisti. Uomini e donne straordinarie selezionate per la potenza e la follia dei loro progetti. Indipendentemente dal numero di followers che hanno. Io sono Davide Francesco Sada, sono l'autore del bestseller La felicità fa i soldi e dal 2010 dirigo l'accademia di formazione finanziaria Money Surfers. La mia vita è sempre sembrata un bazar, ho provato di tutto. Sono stato un wannabe rock star, un giornalista, un regista e persino un rampante marketing manager. E nonostante mi sia sempre impegnato a fondo, i risultati che ottenevo erano sempre scarsissimi. Caduto in depressione, iniziai a divorare libri di self-help, un sacco di fuffa. Ma poi un giorno, in uno di questi, lessi una frase di Jim Rohn. Frase che cambiò la mia vita per sempre. Non siamo altro che la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso. Fu come un'esplosione. Atomica. Nella mia vita non accadeva nulla perché, per un mix di superbia e paura di uscire dalla mia comfort zone sociale, tendevo a fare tutto da solo o con le persone che conoscevo già. Quando mi sono imposto di incontrare e collaborare con uomini e donne straordinarie che non conoscevo ancora, anche la mia vita è diventata altrettanto straordinaria. Per questo ho creato il Bazar Atomico, un pretesto per poter continuare a conoscere persone sempre più ispiranti e, grazie alla tecnologia, condividere i loro insegnamenti con il resto del mondo. Buone deflagrazioni! Benvenuti a un nuovo episodio del Bazar Atomico. Gli ospiti di questa puntata sono già passati a trovarci in realtà quasi due anni fa e stiamo parlando di Giano Lai e Francesca Manunta, conosciuti come Cosa Mangiamo Oggi. Attraverso la loro attività su YouTube e sui social media portano il loro pubblico, e anche noi speriamo, alla scoperta del buon cibo in Italia e nel mondo. Durante la nostra conversazione scopriremo cosa è successo e cosa è cambiato nelle loro vite nell'arco di questo tempo. Prima di iniziare però ti ricordo che in studio beviamo solo fucking caffè carnera e mi raccomando, se vuoi supportare questo podcast, clicca segui su Spotify, vota con le 5 stelline classiche di Spotify, non l'hai mai fatto? Fallo, per favore. E poi magari iscriviti su YouTube e clicca sulla campanellina per ricevere le notifiche ogni volta che verrà pubblicato un nuovo episodio. Ma adesso rilassati e goditi lo show. Giano, Franci, ve lo dovevamo, perché voi non lo sapete, ma voi siete i leader di questo podcast. Attenzione. Attenzione, che responsabilità. Siete in assoluto gli ospiti che hanno avuto più visualizzazione di tutti, ma di gran lunga rispetto a tutti gli altri ospiti che a questo punto potranno anche non venire più, cioè facciamo solo noi tre, noi quattro amici. Mi hai tolto le parole in bocca perché io avrei iniziato dicendo, facciamo questi primi 15 minuti all'insegna del flex, parlando di quanto è stata figa la prima puntata. Esatto, di quanto ci siamo divertiti. Ah, mi è piaciuta anche a voi? Sì, tanto. Deve essere passata questa cosa perché è incredibile i numeri che ha fatto per la nostra piattaforma. Ricordiamo, questo è un podcast di nicchia, nessuno deve dire che lo ascolta per quello che vogliamo tenere le views basse. Esatto, elitario, non ce ne frega niente. No, comunque grazie di essere qui. È cambiato molto rispetto alla prima puntata. C'era ancora il covid, c'era tutto, eravate ancora a Torino, forse eravate già appena... No, eravate già qua. Era a Milano ma ci sono stati dei cambiamenti. Parlatecene perché, insomma, per me il vostro cambiamento è veramente un segno dei tempi. Cioè la vostra storia racconta più di ogni altre, secondo me, vuoi perché, non so, è più interessante per la mia generazione. Cioè vedere delle persone che in realtà siete più giovani di me, tu di chi non si può dire... 79. Anch'io, anch'io. Vabbè, leggermente più giovani di me, caspita, avete cambiato la vostra vita mentre ce n'era un'altra in corso. E rispetto ai ragazzini che, ne parlavamo prima di iniziare la puntata, che sono nati già, quella piattaforma li hanno veramente cresciuti là dentro, allevati dentro YouTube, poi invece ci siete arrivati dopo. E chissà quanti altri cambiamenti ci aspettano, aggiungerei. Perché una volta che cominci a cambiare poi non ti vuoi più fermare, questo è il fatto. Finché non fai il primo grosso cambiamento sei restio, no? Rimani... ma per me e credo anche per Franci e forse un po' per tutti vale su un sacco di campi. Cioè noi... e qui torno a quello che dicevo prima. Oggi, ragazzi, rischierò di ripetere... io sono... ho questo difetto, che rischio di ripetere cose già dette in altre interviste, magari anche in queste... nella sede della prima intervista. Quindi scrivete nei commenti, alla terza volta che ripeto una cosa già detta, sono squalificato automaticamente dall'intervista. Prima di venire qua, gli ho detto, vogliamo riascoltare la prima, così evitiamo di ripetere la prima. Che secchiona, no. E gli fa, no, no, assolutamente no, gli vado a braccio. Ok, va bene. Allora, tanto la prima, i vostri fan vi sentirebbero all'infinito ripetere le cose. E quelli nuovi non l'hanno sentita. Quindi, beh, posso dire che se no diamo per scontato le cose, giustamente non è che proprio tutti vivono per il bazar atomico, ma sia Giano che Franci, tutte e due avete cambiato vita, cioè avete abbandonato i vostri lavori precedenti e siete dediti al 100% al vostro progetto mediatico che si chiama Cosa mangiamo oggi. Esatto. Sostanzialmente dopo 4-5 anni di lavoro part-time, in realtà Giano già da prima si dedicava al 100%. Al posto di lavorare, dice, al posto di fare l'altro lavoro. Esatto, abbiamo deciso di provarci e quindi di dedicarci al 100%. Sì, è una storia interessante, ma secondo me in realtà, come dicevi tu, è un po' lo specchio dei tempi. Credibile. Perché non esiste, non esisterà sempre di più il lavoro che inizi quando hai 25 anni ed esci dall'università e che fai fino a quando vai in pensione. Quindi secondo me è proprio il mindset che deve cambiare. Così come quando io ho studiato, non ho studiato per fare questo lavoro qua, che non esisteva neanche, i ragazzi che oggi sono all'università si stanno formando, ed è una cosa secondo me importantissima, quindi io sono pro studio, però nella loro vita cambieranno e nei lavori e non lo possono sapere. E secondo me, in questo momento intendo dire, secondo me la figata proprio è questa. Perché così perlomeno… Noi l'abbiamo acciuffata proprio alla fine. Esatto. Sì, esatto. Hai quella sensazione di dire, cazzo, sono per un piede, sono riuscito a entrare… L'ultimo treno che è passato. In realtà poi la classica frase smemoranda da bacio perugina, che non è mai troppo tardi, no? Ci puoi entrare anche tra vent'anni. Io tutte le volte che penso al percorso che abbiamo fatto, mi dico, cacchio, perché non l'abbiamo fatto? Dieci anni prima, quindici anni prima, però poi mi rispondo, ma meno male che l'ho fatto. Ah beh, certo, perché in effetti lo fai con una saggezza diversa. Tra l'altro, a proposito di saggezza, è un po' interessante secondo me capire per le persone che ci ascoltano quali sono le stagioni della vita che ti portano a fare questo cambiamento. Cioè c'è una fase di gioco, immagino, partiamo ad cazzo, divertiamoci. Poi c'è una fase intermedia, poi un'altra fase intermedia e poi cosa succede? Spiegateci un po' nel vostro caso come è andata, perché mi immagino una persona che vuole partire e dice se vabbè non ce la farò mai, oppure c'è un modo. Assolutamente, generalmente le persone vedono la tua fotografia attuale che è la fine, cioè in realtà non è la fine del percorso, però se oggi finisse tutto sarebbe la fine del percorso. Tu devi vedere come sono nate le... e poi sembra anche, e forse questa è un'altra cosa già detta, sembra anche un mestiere molto facile, no? Quando guardi due persone che hanno certi numeri, che possono essere grandi, piccoli, poi quello è relativo e sembra che facciano questa bella vita che si vede nei video. Cioè sembra tutto molto facile e sembra che ce lo siamo costruito in maniera anche super facile. In realtà, come dicevi tu, è un percorso che chiaramente nasce sempre dalla passione e dal gioco, perché quello è la miccia iniziale che ti permette di far partire il tutto. Poi col corso del tempo comincia, vedi che comincia a diventare una cosa importante, ma perché diventa una cosa importante? Perché tu hai questo fuoco che ti arde dentro di questa passione, di questo gioco che ti piace fare e che fortunatamente ci piace ancora un sacco fare, e quindi un po' per bravura, un po' per fortuna, perché poi c'è anche il lato fortunato della cosa, alla fine diventa piano piano un qualcosa di sostenibile, che non era partito con l'idea di farlo diventare qualcosa di sostenibile o di fare i numeri o di eccetera eccetera, no? Io ci metterei anche un altro punto, che è la costanza dei piccoli passettini giorno per giorno, perché giorno per giorno tu non vedi nessun tipo di cambiamento. È come quando vai in palestra e speri immediatamente di diventare un bodybuilder, oppure ti faccio un esempio, abbiamo appena finito di fare la Via degli Dei, quindi 130 chilometri. Come tutti i creator, eh? Come tutti i creator... La prossima barcavela, perché se no ci incazziamo. No, allora no, barcavela no, perché mio padre mi ha obbligato... Mi piace che noi prendiamo per il culo i nostri ospiti che vengono qua, e poi dopo vanno a via e li prendiamo per il culo. Tanto tornano tra un anno. Ciao Mick, ciao Mick. Tornano tra un anno se non mi... Esatto, 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 esatto. No, quando ero piccolo mio padre mi ha obbligato a fare questo corso di vela, dove mi sono uscita terrorizzata, quindi in realtà... Non fa per te. Non fa per me, però chi lo sa, magari cambia idea. Ciao ragazzi, siamo al porto di Ravenna. E quindi sì... Sì, però è vero, è molto social questa cosa della Via degli Dei. Sì, è molto social, ma... Poi dopo potremo fare Fuerteventura, l'altra cosa. Esatto. Bali si usa ancora, Pucca? Sì, sì. Ma penso di sì. Bali per forza. Bali andiamo, ci vediamo cosa è stato. Ma in realtà, guarda che poi come mi dice sempre lui, io quando mi impalino su una cosa divento monotematica. Adesso sto solo guardando video sul cammino di Santiago, sto diventando un'esperta di scarpe, zaini e tutto, gli sto già dicendo, guarda, dobbiamo fare un altro cammino in preparazione al cammino di Santiago. No, peggio. Acceniamo e poi gli dici, posso mettere un video sulla tv? E io, va bene, metti un video sulla tv. Parte un quarto d'ora di un video di qualcuno che ti fa vedere che zaino ha fatto. Non il cammino di Santiago, che zaino ha fatto per il cammino di Santiago. Anch'io sono così. E quindi, ritornando al punto perché ho tirato fuori la Via degli Dei, e tu devi fare 130 chilometri, che obiettivamente al giorno uno sembra una roba insormontabile. Poi in realtà, giorno dopo giorno, porca miseria, vai avanti e li fai. Però è ovvio che è centimetro per centimetro, chilometro per chilometro, che tu riesci a muoverti e a raggiungere i risultati. Inizialmente, lì per lì, se pensi alla fine… Ti deve piacere la strada, in sostanza. Sì, ti deve piacere e devi essere costante, perché magari ogni tanto non ti piace. Quella è la cosa che ha scatenato l'idea di dire no, ma basta, non posso più andare avanti con l'altro lavoro. Cioè c'è stata una notizia che è arrivata, una mail particolarmente, una proposta che ha detto… No, io lo sapevo da due o tre anni, che era lì come chimera, dicendo dai, lavoriamo. Cioè, ma c'è stato un momento? Cioè, è stato un video che praticamente è andato bene, un trend che avete visto che saliva, l'engagement, che cazzo ne so c'è? Ti dico la verità, io che possiamo dire, poi correggimi se sbaglio, che ho un po' iniziato questa cosa qua. Lui ha acceso la miccia. Io sono quello che voleva aprire il canale YouTube da tanti anni. Non avevo ancora idea che forma dargli, però volevo aprire un canale YouTube che parlasse più o meno di cibo. Inizialmente forse volevo fare solo video ricette. Vabbè, comunque, mi balenava un po' in testa quest'idea. Poi lo feci, coinvolsi lei, ma lei inizialmente, anche se era nei video, lo vedeva più come un progetto mio, non gliene fregava più di tanto. Io ti dico la verità, fin da quei primi video, che sono i famosi video di cui abbiamo parlato anche l'altra volta, che guardava solo mia mamma, sua mamma e qualche amico a cui facevamo pena, io già ci credevo un po'. Cioè, nel senso che ci speravo, quantomeno. Cioè, vedevo del valore in quelle cose che stavano facendo, per quanto fossero molto grezze. Io le riguardo oggi e mi vergogno, e quasi quasi li vorrei togliere, quei video. Però mi sembravano delle robe fighe, io andavo profetizzando i miei video, a tutti quelli che incontravano, dicendo, oh ma vai a vedere questo video che ho fatto, che è super bello, così cosa. E mi sembravano veramente i video più belli del mondo, e quindi io un pochino ci credevo. Cioè, erano i video che avresti voluto vedere te, forse? Sì, ovviamente con tutte le imperfezioni, gli errori del caso, però... Al di là della tecnica, cioè proprio il... Esatto, cioè conoscendo le mie capacità, mi sembrava un lavoro bellissimo, no? E quindi un pochino ci credevo. Però, e rispondo all'altra tua domanda, in realtà lo starter, che poi ci ha fatto un po' salire, e sono stati dei video che sono diventati, non so neanche se dire virali, però che hanno fatto un bel po' di numeri, e che piano piano hanno portato gente sul canale, ma questo è successo sei barra otto mesi dopo l'inizio. Quindi... Sì, quelli dei ristoranti stellati. Soprattutto quelli, e poi come sempre diciamo, perché poi sembra che, in realtà, nel momento in cui sono arrivati quelli degli stellati, che hanno avuto il loro successo, la gente cosa ha fatto? Andate indietro a vedere cos'altro avevamo pubblicato. Perché è sempre così. Se tu hai... Se tu incappi nel video virale che hai fatto, e ti può succedere, perché succede di fare il video virale, la fortuna non è fare il video virale, la fortuna e la bravura sta nel farsi trovare pronto, nel momento in cui fai uscire un video virale, ad avere un pregresso di video fatti bene, e di alta qualità, che hanno guardato in quattro, ma tu sai che quel video lì è di qualità, e quei mille, quei diecimila che vedono il virale, vanno a vedere gli altri, e se tu non ti fai trovare pronto, è come il tormentone di Zelig, che si è inventato la battuta a una stagione, e poi finisce lì. Rispetto al comico cazzuto, non so come dire. Quindi questo ti stimola anche a dare qualità fin da subito. Beh, tra l'altro, noi accitiamo sempre questo podcaster americano, aiutami, Chris Williamson, che l'altro giorno ha postato queste statistiche, che lui praticamente a Pred fa per tre anni, noi abbiamo fatto un podcast che non vedeva, non ascoltava nessuno, in un anno, bah, è andato su a vertiginosamente, e per i podcast questo vale anche di più. A proposito dei podcast, sembrerebbe che qualche voce mi dice, qualche uccellino mi ha detto. Fino a che non parte. Noi aspettiamo che l'onda del podcast finisca, che tutti ne abbiano le palle piene dei podcast, e poi iniziamo il nostro. Voi li ascoltate i podcast? Sì, sì, sì. Qualcosa ascoltate? Barbero? No, allora, il vostro, perché poi anche lì la cosa bella è che un podcast come il vostro, ma come anche ce ne sono anche tanti altri, non sempre hanno un fil rouge. Il nostro proprio? No, ma noto che è così un po' per tutti, e quindi la figata è proprio quella, perché c'è la puntata che ti, perché poi alla fine traina un po', allora, in generale traina l'host, cioè secondo me è molto importante sia l'intervistatore che l'intervistato. Se di base l'intervistatore non è bravo, probabilmente non guardi proprio nessuna puntata. Se l'intervistatore è bravo, guardi quelle dove ci sono gli intervistati interessanti a quel punto, e quindi magari ne guardi una, poi ne salti due, cioè un po' così. Sì, sì. No, devo dire sì che in questo momento c'è un sovraffollamento di contenuti podcast e, cioè, chissà, come la vedete, ci sarà una selezione naturale, però i podcast sono tanto diversi fra loro, cioè definirli tutti i podcast, cioè ci sono varie famiglie, cioè ci sono dei podcast che potrebbero essere veramente delle audioguide, tutti preprodotti, cioè non so come dire, delle audioguide da museo quasi, e poi invece ci sono altri format un po' più liberi, format veramente folli, format che ricordano le interviste, quelle di Marzullo, cioè tipo, ce n'è uno che va molto, che diciamo, noi usiamo spesso, guardiamo, si chiama One Podcast, come si chiama? Quello che... One Podcast con l'imbianco e nero? Io non lo so. Esatto. One more time. One more time. Ma non è quello di Radio DJ? Sì, no, non è di Radio DJ, è di una... me l'han fatto vedere e fanno queste interviste proprio tipo Marzullo, adesso non voglio offendere, però, c'è tua mamma, molto intimistica, dove sei nato, cosa hai fatto nella vita, ti picchiava tuo papà, queste cose. Sto facendo dissing, non si era capito. Comunque per me guida innanzitutto... Ci sono tutti tipi. Sì, esatto, per me guida il video innanzitutto, cioè il podcast deve avere... per me è fondamentale, cioè ma lo vedo anche con le interviste che hanno fatto con noi. Se mi fai un'intervista audio, poi per carità, per come fruisco io delle cose, perché indubbiamente ci sarà anche un sacco di gente che segue su Spotify e su tutte le varie piattaforme, interviste solo audio e magari funzionano benissimo. Hanno messo il video anche su Spotify adesso. Ho notato, ne ho visto uno stamattina. Per come fruisco io di queste cose, io ho bisogno della parte video, per me è fondamentale. Video in presenza, non video in remoto con i due schermini, sennò diventa più fastidioso. Se sei bravo a intervistare agli ospiti di un certo tipo e fai video e tutto ha chittato bene, secondo me sei già in vantaggio rispetto agli altri. Sì, tra l'altro, osservandovi, perché io vi seguo su tutti i canali, mi interessa molto questa cosa che state facendo della casa che mi sto studio, giusto? Capito bene? Sì, sì. Cioè che la state progettando di brutto, cioè spiegatemi bene cosa avete fatto, perché mi interessa tantissimo. Abbiamo comprato una casa e siamo diventati improvvisamente poveri. Aspetta, non abbiamo ancora finito di diventare poveri. No, no, esatto. Comunque anch'io sono la vostra situazione. Mi fido molto del futuro, diciamo. Molta fede. Credo nella provvidenza. E sostanzialmente noi volevamo una casa con una cucina gigantesca dove ci sarà una cucina gigantesca dove gireremo i contenuti, quindi ci sarà tutta la parte dove gireremo le varie videoricette che in realtà sono più un aprire le porte di casa nostra e poi ci sarà la parte di studio barra podcast dove noi lavoreremo normalmente e poi appunto ci piacerebbe tenere un podcast. Questo è un po'. Abbiamo un enorme open space tant'è che ci sono i muratori che ogni tanto dicono ma questa è una casa o è un ufficio? Stiamo facendo un ufficio. Esatto. Che figata. E quindi è gigante. Abbiamo sventrato un po' tutto. Abbiamo aperto tutto come si poteva fare. Beh, che sogno però. No, è bellissimo. Io sono felicissima Quando è che sarà pronta tutta? Ecco, è questa la domanda problematica. Ah boh perché poi bisogna vedere cioè quando sarà pronta tutta boh fine luglio a settembre Però brava che non dici l'anno. Esatto, esatto settembre non lo so ma in realtà cioè nel senso che ci entriamo non che sarà tutto pronto poi tutto pronto chissà Ma allora spiegami cioè come vi siete organizzati? C'è la cucina ha le telecamere da qualche parte le posizionerete? No, allora Tipo grande fratello no? No, no, no in realtà sembrerà una casa normale Però è una bella idea che vi posso dare Mi hai instillato Cioè dietro le quinte un canale a pagamento Esatto Anche il camera No, quello no Non è uno studio televisivo se questa è la domanda Anche perché gli architetti Gli verrebbe la psoriasi che noi dobbiamo mediare Sì perché in questi mesi stiamo combattendo contro gli architetti che giustamente Gli architetti Addirittura Cioè Che cazzo c'è funzionale che non sempre vanno d'accordo Quelli sono gli ingegneri Per cui sono gli ingegneri O i giovani In realtà ci stiamo trovando molto bene con lo studio con cui stiamo collaborando E vi hanno fatto un disegno di quello che poteva essere Ci hanno fatto un plastico Ah l'ho visto L'ho visto In una storia l'abbiamo messo Bellissimo Io ho scelto loro solo perché ho visto che facevano i plastici 3D Tipo Bruno Vest Bravo Sono gli stessi di Bruno Vest Tipo Doc Brown Mi scuso per la rozzezza E colonnello mustard col candelabro in sala del biglietto Ma avete i pupetti che vi raffigurano No Non ce li hanno fatti Una volta li avevano fatti però non avevano le nostre sembianze Ah sì è vero avevano messo un vecchietto L'umarelle Il Lego Il Lego di Gianna Fran Beh figo Caspita Ma ce l'avete una cosa che ho visto nella casa di Galeazzi che lui ovviamente ha fatto una casa che cioè ci vuole la laurea Tutatec Tutatec e ha tipo un bottone di questo c'ha questo Per l'esplosiva Cato di istruzione Secondo me C'è L'ultimo video C'ha vaffanculo Dove devi girare le chiavi contemporaneamente No Quella Il rubinetto della cucina che praticamente schiacci poi esce Acqua frizzante Acqua bollente Acqua fredda Ma io i video di Andrea li ho visti tutti Tutti Come si fa a non vederli Cioè veramente Tra l'altro tu l'altra volta che alla prima volta hai detto Buonasera amici Bene amici Bene amici Ti sembrava un'interferenza No ma io una volta L'ho fatto Io sono un fanboy e purtroppo non riesco a trattenermi dall'essere un fanboy Una volta l'ho incontrato in Corso Com che lui è allo studio lì Io credo che lui non sappia chi siamo No non credo E siamo passati era lui con sua moglie e io gli faccio Bene amici E lui si è girato così Ciao Stiamo parlando di Andrea Galeazzi Lo youtuber più Youtuber Sì beh E anche quello E anche quello Che parla di tecnologia più famosa d'Italia E lo volete mettere qualcosa Secondo voi è una cazzata quella roba lì Che esce già No non è una cazzata Ma bisogna trovare la mediazione tra quello che mi piacerebbe avere e i soldi Quello costa un botto Però se togliamo il letto e andiamo a dormire da mia zia potremmo mettere il rubinetto Però sì No io non vedo l'ora Sarà fighissimo Sarà fighissimo Sì Sappiate che comunque se avete qualche problema questo studio è anche vostro Fantastico Visto che ormai siete ospiti Di casa Ma invece Vabbè Dai Assicondiamo un po' la prurigine cioè dei vostri follower e anche dei nostri Adesso vi dovete beccare tutto il giorno costantemente lavorate insieme siete una coppia questa cosa vi inquieta no? Vi piace? Qual è il segreto qual è il segreto per far combaciare avere voglia addirittura di lavorare ancora di più insieme dopo che tutte e due avete lasciato il vostro lavoro convenzionale Forse il segreto è non chiederselo cioè ti avrei risposto boh ma forse è proprio il fatto che non ci siamo mai posti questa domanda cioè io e lei abbiamo secondo me la fortuna di perché poi sai quando tu trovi la persona della tua vita con cui ti fidanzi ti sposi eccetera eccetera tu non puoi sapere in anticipo certe cose le scopri solo con gli anni e strada facendo se veramente ci sono le stesse passioni quanti interessi avete in comune poi alle volte è anche bello non avere gli stessi interessi in comune però noi ci siamo trovati un po' nella situazione in cui dopo tanti anni abbiamo scoperto e coltivato insieme degli interessi che si intrecciavano perfettamente o magari uno è stato bravo a portare l'altro sui suoi interessi perché in certi casi quando ci siamo conosciuti io magari non ero intrippato per il cibo e mi ha portato dentro lei su altre cose magari che ora non mi vengono in mente l'ho portata dentro io che pirla si può e quindi alla fine ti ritrovi a condividere le stesse passioni e nella gestione del canale youtube l'altra botta di culo è che non ci pestiamo i piedi perché io sono bravo a fare certe ma non l'abbiamo scelto io sono bravo a fare le cose più operative il montaggio le robe così cos'ha e lei è brava più a fare scelte strategiche su piano editoriale la collaborazione andiamo a scoprire quel posto lì c'è spesso le vacanze è lei che guida nel senso che ovviamente poi magari magari ti chiedo ti chiedo anche il parere esatto non è che dici domani fai la valigia che si parte poi scopri dove andiamo però comunque è più lei pianificatrice e io sono più bravo a gestire poi i contenuti creati o magari anche la creazione di contenuti mentre li facciamo e a mettere insieme i pezzi perché magari ho più la visione del montatore del regista di questi mestieri che sto imparando che non so fare no li fai benissimo il tuo montaggio sono veramente fighi mi ispiro molto ai tuoi montaggi grazie migliorano sempre di più tra l'altro gli ultimi video spaccano ho visto quello che mangiate il panino ah ok bellissimo no poi il momento il momento vanzina sì 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 a Londra gliel'ho mandato a loro due gliel'ho girato quello è stato ma guarda anche inaspettato totalmente inaspettato di tanto che io ho detto io ho fatto così ho detto io mi dissocio allora devo ammettere che non è farina del mio sacco nel senso che quella è una gag spieghiamo spieghiamo è una gag si può far vedere no non si può vedere eh lo devo andare a ribeccare esattamente dove sta vabbè diciamolo cioè perché magari non tutti l'hanno vista sì allora praticamente c'è una gag su tiktok poi tiktok ha queste gag che durano tipo un mesetto in quel mese le fanno tutti poi improvvisamente muore e ne nasce una come i filtri no quelle robe lì e c'era un periodo in cui c'era questa gag dove praticamente tu dicevi bello è andare al mare buona la pizza margherita malafiga e sulla parola malafiga e invece le donne lo facevano al contrario c'era un fermo immagine colore sparato anni 80 la musica regia di Carlo Vanzina io ho semplicemente copiato quella gag ma io molte gag molte battute che faccio non sono farina del mio sacco nella misura in cui io anche nella vita normale sono così cioè se un mio amico fa una battuta che mi piace io la prendo e la faccio un po' diventare mia succede un sacco di volte nei video che magari cito altri youtuber miei amici scene di film gag che mi sono piaciute e le faccio un po' diventare miei sai che ieri o l'altro ieri hanno dato i davidi davidi di donatello e c'era proprio Vanzina l'unico superstite che ha detto proprio questa cosa qua ma guarda in realtà noi le battute migliori che avete visto in questo video contributo non le abbiamo scritte noi le abbiamo prese paro paro dai nostri amici ma ci sta ma il vero umorismo è quello cioè il vero comico poi c'è io ovviamente non mi ritengo un comico tant'è che io non mi invento le battute però se ci pensi in una compagnia di amici se tu sei quello un po' più istrione sei quello che registra mentalmente tutte le cose interessanti che sente per poi rispararle al momento giusto quello che fa il dj anche io ho sempre fatto così dj di battute nella vita e continuo a farlo su youtube quindi è un ottimo modo ultimamente ho visto che dopo il covid avete ricominciato a andare in giro un'invidia totale questa intervista ragazzi la faccio proprio per me ok come cazzo fate a sapere prima il posto giusto dove bisogna andare a mangiare l'hamburger giusto il kebab giusto cioè c'è un metodo che ho applicato perché guarda veramente siete le persone che invidio di più perché io magari lo dico anche lui tipo lui è andato a copenhagen e non è andato a mangiare quella hamburg un po' perché c'ha da lavorare voi siete andati a londra dove abitavo io e siete andati nei posti dove io non sono andato quella roba lì quel posto su acne road io l'ho visto no ma quello lo conosco c'ha la terrazza però londra 90% peschi i posti dove i tuoi amici cioè nel senso è talmente devastante che vai sempre a pescare posti dove nessun altro è andato in realtà c'è un metodo perché io dico non so per esempio dov'è che voglio andare ecco io voglio andare a Praga non sono mai stato a Praga mi vergogno immensamente di questo cosa dimmi come si fa no dimmi come fai dimmi dove devo andare no 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 non voglio sapere dove devi andare così io voglio la canna da pesca non voglio il pesce ok come si fa a trovare i posti you cannot miss come cazzo si dice unmissable vabbè innanzitutto fai le ricerche in inglese non le fai in italiano punto numero uno punto numero due passi intere giornate seriamente a spulciare 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 terzo se hai qualche amico chef ti fai fare ti fai dare qualche dritta e quindi questa terza componente sta cominciando a pesare per noi essendo nell'ambiente più ti arrivano stimoli e noi abbiamo un telefono pieno di stimoli che ci arrivano magari che ne so di un posto dove andare a mangiare in Sicilia dove non ho intenzione di andare a mangiare ora ma me lo segno o quello chef o quell'altro quindi a un certo punto tu ti trovi con una lista infinita di posti dove andare a cui non riesci neanche a stare dietro però ti fai delle note sul cellulare sì 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 io adesso sto creando una mappa ti ritrovi con una mappa di Milano con tutti questi segni a posto non so se amici scusate faccio il registro a cazzo no è di qua ma non sono telecamere come no quella praticamente ragazzi questa è la mia mappa di Milano non si capisce verso l'altra che lì non mette a fuoco dammela uno dammela due questa è la mappa di Milano ma non vi fidate della mappa di Giano perché la mappa di Giano non è così scientifica anche se non si mette a fuoco non si capisce una mazza è piena di segni a posto ma io ho tutto così Londra, Parigi tutto così non ci capisco più niente quindi ogni volta tipo adesso su Parigi ah cavolo hanno aperto quel nuovo posto prendi, segna oppure uno così porparletti dice ah sono andato lì tu prendi, vai valuti, ok lo segno che app usi per le note? Google Maps perché io certo punti direttamente no faccio le mappe private aspetta, aspetta no 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 innanzitutto io quando io segno un pin su Google Maps io non solo segno un pin ma devo segnare nella nota di quel pin perché sai che quando metti un pin puoi mettere la nota mi scrivo chi me l'ha detto e perché me l'ha e no se no e se no dico perché me lo sono segnato quindi tu lavorate con Google Maps cioè tu lo punti lì sì io prendo Google Maps vai nelle mappe private nei salvati non mi ricordo perché è assolutamente anti-intuitivo è un po' tricky è un po' tricky sì lo so e poi a un certo punto tu arrivi sulle tue mappe che puoi nominare e poi creare le cartelle bravissimo io ho la cartella e puoi creare anche i livelli quindi io li divido anche tipo per colazione e le puoi condividere no veramente sì 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 esatto perché hai le concine quindi metto le concine e poi posso defleggare di modo tale che se a Londra voglio solo le colazioni poi defleggare io ho solo i pin delle colazioni e le venderemo online a mille euro no tu scherzi allora io sono appassionato da un paio d'anni di campeggio selvaggio col tetto con la tenda sul tetto allora ci dobbiamo parlare perché io vado con mio figlio e quest'anno andrò ancora e Giovanni mi ha dato il consiglio di uno youtuber che si chiama Yargidone Yargidone sì e l'ho visto lui non ha proprio come me lui ha proprio il van però è un ragazzo veramente sui generis sì fa le sborgne lui la sera cioè proprio hardcore e cazzo cioè alla fine lui mi ha venduto le mappe e c'era svalangata di punti me l'ha venduto cioè io ho comprato tutto anche la Norvegia la Svezia non si sa mai sai quanto tempo hai risparmiato è un valore pazzesco un valore incredibile ed è un business della madonna tra l'altro vedi anche quello vendere le mappe altro che la guida da Slow Food Michelin boom ti mando direttamente il file è una possibilità e poi come diceva Franci negli ultimi anni stiamo cominciando a conoscere tutta una serie di personaggi del mondo del food ma non per forza chef anche super appassionati creator gente che ha lavorato in vari posti e questa cosa ci sta un po' facilitando il compito perché spesso arrivano consigli da addetti ai lavori di un certo calibro e dici cacchio se me lo dice lui è per forza buono e spesso ti vengono consigliati dei posti che magari sono fuori dai radar e che nessuno conosce e quindi è anche così e più ti inserisci in questo mondo ed è un cane che si morde la coda più vieni stimolato da persone di questo tipo e più cadi nella tana del bianconiglio esatto però io mi rendo conto che è sempre più così perché relegare tutto al web mi sa che sta un po' come dire perdendo il suo valore cioè per esempio qua intorno siamo pieni di posti strafighi e Milano sta diventando un po' come era correggetemi se sbaglio come era Roma Firenze Venezia qualche anno fa cioè nel senso che è pieno di posti che hanno 4 stelle 4 stelle e mezzo 5 stelle ma perché arrivano gli americani i tedeschi che non capiscono notoriamente un cazzo di cibo e danno 4 stelle 5 stelle a un posto che fa cagare e quindi rovinano un po' le medie adesso non vorrei fare razzista no è vero ma poi devi anche saperlo leggere il web tipo TripAdvisor io ho smesso di usarlo e poi io generalmente non leggo i commenti perché poi i palati sono talmente diversi e bisogna anche vedere mediamente tu dove ti posizioni all'interno di chi di solito scrive le recensioni su Google o su TripAdvisor io per esempio ho sempre utilizzato il metodo di guardare le foto ok schippo quelle del proprietario sei la seconda persona che ce lo dice vediamo se siete attenti chi è che l'aveva detta questa lui? no Carlo Vanzina lo guardo assolutamente Diego Rossi io guardo solo le foto ma aspetta attenzione io guardo solo le foto quelle che potrebbe fare mia mamma tirate malissimo le peggiori scusa mamma ti disto un attimo su come fai le foto facciamo anche la mamma di Franci così almeno sono che se sono invitanti quelle capito no tu se tu prendi la foto quella fatta male vuol dire che proprio what you see is what you get cioè ti arriverà quella roba lì invece la foto tutta imbellettata fatta dal proprietario proprio la parte che dopo un po' che abbiamo guardato milioni e milioni di piatti milioni magari forse troppi però comunque un casino di piatti lo sgami se è un ghirigori fine a se stesso che non aggiunge nessun valore al piatto rispetto a un impiattamento semplice ma in cui ti dici no no questo qua ha cucinato bene vale la la chance vale e secondo voi questa sensibilità questa consapevolezza si sta democratizzando cioè si sta ampliando oppure la gente viene inculata a sangue ma guarda che anche noi pigliamo le fregature diciamo questa cosa qua noi a Londra volevamo fare un video sulle colazioni e io avevo un sacco di posti che ritenevo validi dopodiché dopo che mi hanno preso palo in fronte palo in fronte la prima volta palo in fronte la seconda mi hanno detto e quindi per la tipologia che volevamo noi e quindi il video è saltato e anche noi abbiamo preso il video è saltato quel video lì è saltato assolutamente noi li abbiamo detto mille volte noi siamo per la gente ci scrive ma è possibile che vi piaccia sempre tutto no ragazzi non è che ci piace sempre tutto è che quello che ci fa schifo che lo incontriamo anche noi non ve lo proponiamo non facciamo video su cose brutte perché ti devo fare un video dove ti devo far vedere dei posti dove non andrai mai c'è solo un motivo per cui potrei fare un video così per fare le views perché tutto ciò che è negativo su youtube funziona meglio lo sappiamo delle cose positive ma non mi va di farti un video truffa quando ho mangiato da piuttosto che il peggiore ristorante di Milano ma non me ne frega niente però anche noi ogni tanto incappiamo magari non è il peggiore ristorante di Milano però anche noi incappiamo in queste cose perché ci sta per una questione statistica di prendere delle cantonate a Londra l'abbiamo detto credo altre volte è molto facile mangiare bene nei posti dove si paga tanto e voi direte grazie al pazzo e in quelli dove si paga poco abbiamo fatto abbiamo trovato qualcosa ma abbiamo fatto un po' di fatica e le colazioni ci sono saltate doveva uscire un video sulle colazioni e non è uscito no però sono curioso di sapere cosa vi è andata male a Londra perché le colazioni sono forse l'unica cosa che io mangiavo in giro parliamo di English breakfast siamo andati in un paio di posti uno in particolare che era osannato da tutti come un posto super semplice super vero quello delle pies hai ragione ma eravate a est adesso poi non ti dico il nome non perché non lo voglio dire ma perché non me lo ricordo comunque dopo te lo recuperiamo dopo te lo recuperiamo però sostanzialmente adesso ci dirà ma è mica io li vado sempre era buonissimo ognuno c'è il suo palato però ecco qual è quella cosa quali sono quegli quegli ingredienti lo uso in senso lato questo termine che vi fanno dire no qui è buona la roba perché è buona banalmente o ci sono delle cose in più che deve avere un posto lo vedi dalla cura dei dettagli dall'impiattamento dalla storia dello chef banalmente magari è uno che ha lavorato in delle cucine importanti e poi ha deciso di fare una cucina più semplice per per cercare di ritornare al cibo magari più vero più condivisibile cioè guarda Diego esatto cioè per me Diego è l'esempio noi tutti qua a Milano sappiamo chi è Diego ma magari viene uno uno straniero che metti caso non sappia chi sia e va lì perché lo consigliano si ritrova un piatto impiattato non da tre stelle Michelin ma dentro ci sono delle robe turbo cioè Diego non ha mai avuto un tavolo libero dal primo giorno anzi è in overbooking costato per noi è il ma ecco se tu riesci a scovare quei posti lì bingo assolutamente tra l'altro lui è proprio uno classico fanatico di cibo che lui nel tempo libero va in giro a cercare potenziali fornitori piuttosto che sperimentare altri ristoranti cioè io quando l'ho conosciuto non ci credevo fa solo quello cioè sì sì vacanza cosa fai poi quando uno ha un ristorante vacanza non ne fa tantissimo o non ne fa eh certo vado dove che andavo in Spagna in Catalogna ho già un tour serratissimo di ristoranti e di fornitori minchia ma stacca un attimo no no il segreto del successo è quello è l'ossessione è l'ossessione sì adesso non per ripetere l'ha detto bottura perché in un'intervista gli hanno detto qual è il segreto del suo successo l'ossessione l'ossessione per il particolare l'ossessione per sapere conoscere quella se tu hai l'ossessione per quello di cui sei interessato di cui vuoi parlare ma riuscirai assolutamente a emergere rispetto alla massa perché la passione che ci metti tu non riusciranno non solo ad ammetterci dagli altri e non hai più bisogno di dividere tra lavoro e tempo libero cioè questa concezione qua sparisce io oggi ho lavorato o ho fatto quello che mi piace fare non lo so ma non mi pongo neanche la domanda non lo sai più e io questa cosa faccio fatica a spiegarle alle persone adesso sapete che vi ho invitato a un evento che facciamo spesso per il covid non siamo più riusciti a fare aiutiamo le persone a cercare questo sacro graal che è un po' l'incrocio tra le cose che ti piace fare le cose che ti viene bene e le cose che però gli altri vogliono da te perché non è che uno vuoi fare il poeta e fai cagare scrivere così mi spiace e c'è c'è un modo per farlo viene insegnato alla Stanford University eccetera e però le persone non so come dire come si fa a farglielo capire che si può fare cioè c'è perché c'è una disillusione forte ma solo tu perché tu hai avuto fortuna oppure tu perché hai quella qualità che io non ho tu perché che ne so sei nel giro giusto cioè tendono a dire responsabilizzarsi perché forse hanno paura di accettare il fatto che in realtà dipende tutto da quanto dipende tutto da te al cento per cento e poi boh magari è anche fortuna a un certo punto trovare quello che ti piace oppure no trovare la strada giusta trovare una serie di allineamento di pianeti che però tu devi comprendere e devi sfruttare perché a un certo punto ti devi guardare allo specchio e dire ok voglio rischiare e perseguire quello che mi fa brillare gli occhi o preferisco rimanere tranquillo paccioso sereno senza avere né picchi ma neanche neanche down e allora uno dice ma sì vabbè ma c'ho una famiglia vabbè ma alla fine c'ho un buon stipendio alla fine che era come vedevamo noi anche alla fine ci sono un sacco di cose positive nell'avere lo stipendio che ti arriva a fine mese e se va male che cosa succede perché poi c'è sempre questo spauracchio e se falli non so chi è che più ci ha chiesto avete un piano B noi non ce l'abbiamo un piano B ma non è perché pensiamo di non fallire è che io sono troppo concentrata a far riuscire il piano A che pensare a un piano B perché se mi devo concentrare sul piano B non faccio il piano A quindi focalizzati su far funzionare quello poi qualche cagata la farai sicuramente ma lavora su quello piuttosto che essere terrorizzato dal fallire sbaglierai è un tema di secondo me è un tema di barattare i propri sogni in cambio della sicurezza di una vita anonima e sempre uguale non è farina del mio sacco neanche questa frase l'ho letta sul blog di Gianluca Gotto ok ah va caspia sì sì ed è una frase è una frase bellissima che quando l'ho letta ho detto questa me la segno perché andiamo al di là del bacio perugina della Smebor no adesso a parte gli scherzi è verissima questa frase ripetila dice me la sono andata a cercare perché io poi me le segno queste frasi qua per cercare di ricordarmeli anche quando faccio le cose dice il vero fallimento appartiene a chi baratta i propri sogni con la sicurezza di una vita anonima e sempre uguale ah certo non ti vergognare di aver fallito significa che hai provato a essere felice certo guarda c'era questo il fondatore di Adelphi che ho letto un libro dell'estate scorsa che una frase che mi ha colpito tantissimo che assomiglia un po' a questa lui dice continuando a fare una vita convenzionale andando a fare un lavoro dove per lavoro diamo l'accezione negativa con un lavoro normale rinforzi la paura cioè tu la stai rinforzando perché allora vuol dire che hai talmente paura dell'ignoto che più vai a cercare la sicurezza più al tuo inconscio mandi un messaggio di paura che viene alimentato dal fatto che tu rimani chiuso in quella sicurezza a me quella quella riflessione mi ha fatto fare un twist cioè ma certo è ovvio che se io vado a fare un lavoro che non mi piace aumenta il raso sempre di più la mia paura di cambiare perché sto ammettendo a me stesso che ho paura esatto il punto è che tu se fai un lavoro che non ti piace o un lavoro standard eccetera che poi apriamo una parentesi non ci entri di male a fare un lavoro normale se sei contento nel senso non è che noi siamo dalla parte giusta e gli altri sono dalla parte sbagliata però il punto è che tu ricevi stimoli dalla situazione in cui ti trovi se tu hai un lavoro da dipendente più ordinario più diciamo lungo i binari standard più riceverai più ti confronterai e parlerai con persone che fanno il tuo stesso tipo di vita e non riuscirai mai a confrontarti con delle persone che hanno fatto delle scelte totalmente diverse e che ti possono dare un punto di vista che magari può essere spiazzante quindi sei meno stimolato e quindi se tu frequenti quell'ambiente lì penserai che quell'ambiente lì è quello giusto se tu inizi a frequentare un ambiente di tipo diverso dirai ma forse esiste un altro modo di vivere la vita e di affrontare le cose magari quel modo lì è il modo più giusto per me o magari tu dici no sai che c'è alla fine il mio modo il mondo in cui mi ritrovo è quello del lavoro dipendente e della di una vita più chiamiamola normata perché ordinaria sembra quasi sminuirla diciamo con dei punti fissi più più definiti sì poi attenzione è normale che sia così cioè nel senso noi in quanto esseri umani siamo resti al cambiamento adesso noi stiamo glorificando il cambiamento ma è difficile nella vita cambiare e non vale solo per il lavoro vale per tutto io ne parlo sempre relativamente al cibo perché secondo me il cibo è il fulcro del cambiamento le cose che non mangi cose che non mangi da quando eri piccolo alcune per presa di posizione non c'è nessun motivo per cui non la mangi non è vero che sei allergico poi certo ci sono anche le allergie ma alle volte molte cose abbiamo deciso che quella roba lì ci fa schifo perché magari la suora alle medie te la cucinava da schifo e non cambi idea bias perché lì sei tu che non cambi idea è così come non cambi idea sul mangiare le acciughe faccio per dire non cambi idea su un sacco di cose quelle persone che magari in vacanza vanno tutti gli anni nello stesso posto perché siamo esseri abitudinari che tendiamo a cercare l'abitudinarietà in tutto quello che facciamo perché perché l'abitudinarietà ci dà la comfort zone e noi vogliamo stare nella comfort zone perché tutto ciò che sta fuori dalla comfort zone ci fa paura ci spaventa attenzione un po' ci attira anche un po' ci attira però ci spaventa anche tanto no vogliamo percorrere le strade che già ma vale anche per me non è che voglio far figo che io vivo solo fuori dalla comfort zone io per moltissime cose sono nella mia comfort zone e cerco di sforzarmi tutti i giorni di fare un passetto fuori ma è difficile perché noi proprio per nostra natura antropologica siamo fatti così tra l'altro quello che diceva la Franci la schipano tutti la sigla del podcast però a un certo punto io dico che ho girato ho letto ho fatto tutto ma la frase che mi ha cambiato di più la vita è quella che dice siamo la media delle cinque persone che frequentiamo più spesso io me lo domando mi dico sto frequentando troppe poche persone interessanti non vuol dire che il tuo amico del cuore che fa la vita però quella roba lì che hai detto in effetti ci ho riflettuto anch'io in effetti la mia vita è cambiata quando ho iniziato a frequentare tipo sti due matti questi erano matti io avevo delle gente normale eravamo infatti stavo per dire perché il passato adesso vi conosce tutto il web ma questo noi siamo rimasti pazzi furiosi io venivo da una famiglia dove cazzo università lavoro pensione famiglia questi non si capiva un cazzo uno si fotografava il culo l'altro ti ricordi chi ha aperto OnlyFans io però non con le mie foto giustamente cioè non so loro poi anche Stefano mio amico che adesso è un manager discografico famosissimo di successo e io facevo queste sedute settimanali con lui dove insieme proprio eravamo amici siamo ancora amici però proprio ci facevamo un po' coraggio a vicenda perché tutte e due avevamo una situazione un po' a rischio perché avevamo lasciato zone di comfort e effettivamente stare in mezzo a persone che fanno un lavoro ti stimola stimola tantissimo cioè vedi che comunque vanno avanti lo stesso e dici sopravvive questo ma banalmente io lo noto anche solo quando vai in vacanza vai in vacanza in un posto nuovo ma non ti succede quando vai in vacanza in un posto nuovo che la tua testa comincia a fantasticare e cominci a fare pensieri anche non relativi al posto dove ti trovi in quel momento anche pensieri relativi alla tua vita normale qui a Milano di cose che potresti fare ti nascono in testa progetti pensi pensi di essere quasi in grado di poter fare tutto nel momento in cui il tuo cervello respira aria nuova e viene stimolato da cose nuove state dicendo tutte cose che non so sembra quasi fatta apposta no è vero cioè noi quest'inverno siamo andati in Costa Rica io e Mario e io mi sono fratturato in realtà ho incrinato una costola il primo il secondo giorno di surf sono andato là solo per quello quindi ho detto adesso sono dall'altra parte del mondo non posso fare surf non c'è un cazzo da fare perché era solo spiaggia e cose e non ho fatto un cazzo due settimane ma quelle due settimane di vuoto sono state come dire affollate di pensieri che boh a un certo punto sono uscito ho scritto praticamente un mezzo racconto di com'era la mia vita di come avrei voluto che fosse ma perché si è creato quel vuoto lì cioè non è avrei potuto farlo anche qua ma non lo farai mai cioè devi andare via e magari anche riempire di vuoto scusate la licenza poetica riempire di vuoto i viaggi ma il vuoto può essere una camminata un trekking sì quando cammini sei solo cioè anche se poi c'hai il gruppo di gente che incontri ma sei solo e il cervello comincia a lavorare a me quello che piace in generale di quello che facciamo della situazione in cui ci troviamo sono principalmente due cose allora la prima è che sei tu in charge di dover far accadere le cose quindi vuoi fare una cosa carta bianca non c'è nessuno che ti dice non lo puoi fare trova la strada per riuscire a raggiungere il tuo obiettivo e a me personalmente questa cosa mi motiva un sacco perché io voglio mi pongo un obiettivo voglio raccontare una storia voglio fare quell'attività eccetera come la faccio e quindi questa cosa qua a me mi carica tantissimo la seconda cosa è succedono spesso degli imprevisti come quello che hai citato tu e quindi la domanda è quando ti succedono come trasformo un problema in un'opportunità quindi come cambio il punto di vista mi togli una cosa quindi io devo fare la stessa la stessa attività che dovevo fare prima o magari me ne viene in mente un'altra con un elemento in meno e a volte succede che quel limite si trasforma invece in un vantaggio perché ti dà sei costretto a metterti in un punto di vista totalmente diverso rispetto a quello che avevi prima non può essere vero tutto questo cioè io l'avevo programmato per mesi non ho badato a spese Costa Rica costa un botto forse una delle nazioni più costose del mondo arrivarci ore di cose non può essere vero cioè ho scelto come te sono ossessionato tutti i posti giusti sapevo già tutto prima di arrivarci le onde sapevo anche quanti secondi duravano le onde in quella cazzo di spiaggia ma non può non può essere accaduto veramente che al secondo giorno sono non riuscivo neanche a tossire ragazzi dal dolore non può essere cioè è troppo qualcosa è troppo un messaggio qualcosa deve esserci ed effettivamente quel vuoto lì adesso mi sta dando dei mi ha dato degli insegnamenti pazzeschi ho cambiato tantissime e cambierò tantissime cose nella mia vita è stato un grande insegnamento e mi dico meno male tra virgolette che è accaduto perché se no non avrei fatto quel click è incredibile cioè è incredibile e una cosa sono curioso visto che ne abbiamo parlato della parola ossessione uscita che è una parola che io adoro però ovviamente come tutte le parole ha una doppia accezione l'ho accostata proprio qua sui miei appunti alla parola perseveranza che forse tu hai in un certo punto accennato bisogna anche farle le cose cioè bisogna continuare e poi tu anche giustamente hai detto se fai dei video che magari all'inizio non si caga nessuno ma li fai belli vieni premiato quindi la perseveranza siccome è un'altra roba che vedo nei miei corsisti tanto che manca è un po' quella qual è secondo voi una buona dottrina che si può utilizzare per essere più perseveranti le persone che fanno fatica a essere perseveranti perché lo fanno credo poi non lo so ragazzi però se ti manca quell'aspetto lì probabilmente perché non sei così votato quella cosa che vuoi non la vuoi fino in fondo o forse la vuoi sperando di ottenerla facilmente e allora non la vuoi fino in fondo se tu vuoi veramente una cosa te la prendi con tutte le tue forze non al giorno uno ma devi fare come diceva Franci un passetto dopo l'altro però lo devi volere se ti manca la benzina che è la voglia di arrivare là la perseveranza è possibile poi mi viene voglia di citare quella cosa di Schwarzenegger che avevo già detto e c'è la serie su Netflix adesso ho visto il trailer me l'hai detto non l'hai detto non l'ho detto nei microfoni quindi lui dice lasciate perdere la motivazione con la motivazione non arriverete chissà dove perché la motivazione va e viene vi serve la routine sì esatto con la routine sono d'accordo spacca perché la routine vi accompagnerà sempre è come una bicicletta con pedalata assistita l'assistito è dato dalla routine che ti dà un po' una mano è come quando ti alleni quattro volte alla settimana poi alla fine vai quasi in automatico ad allenarti che la gente si affida ma questi due dovrebbero fare un podcast si affidano troppo si affida troppo alla motivazione la gente in effetti quella ti dura c'hai quello slancio all'inizio però poi se non riesci a metterti in carreggiata subito quello finisce io ho visto un sacco di video sul tema della procrastinare le cose sul fatto di come mai non concludiamo tutti i progetti che ci mettiamo in testa sostanzialmente principalmente ti devi mettere in una condizione di possibilità di poterti concentrare su quello che fai di evitare di avere stimoli extra il telefono attività di questo tipo qua che sono assolutamente focus focus quindi noi falliamo quindi noi falliamo tutti i giorni noi falliamo tutti i giorni però perché sostanzialmente il cervello cerca sempre di spostarsi su qualcosa di meno noioso quindi telefonino cavolo c'è un reward pazzesco con questo swipe up che ti fa incredibile e quindi tu devi trovarti in una situazione in cui non hai nessun tipo di stimolo tranne il task che tu devi fare di modo tale che l'alternativa è fissare il vuoto che è decisamente più noioso di quello che devi fare e di cui magari non hai un grande stimolo in quel momento e quindi ti metti a farlo e la figata è appunto la routine pezzettino per pezzettino per pezzettino poi ti guardi indietro guardi tutta la strada che hai fatto e continui un altro trucco che uso io io praticamente il 99% del mio lavoro oramai è solo creativo che è una sola in realtà perché è il lavoro più massacrante il lavoro creativo con tutto rispetto per chi non lo fa però porca troia ogni tanto piacerebbe anche a me rispondere a qualche mail dire tbd cgbd sì ci sentiamo asap asap cbd tt hc cbd tt hc cioè mi manca quel mondo di cazzo però io uso questo metodo adesso ultimamente funziona con me sai cosa faccio mi immedesimo in me stesso a fine giornata che non ho fatto un cazzo e ti senti e mi sento in colpa mi sento una merda non mi godo mio figlio non mi godo il film che mi vado a vedere a volte non ti devi neanche immedesimare succede quindi pensi a te il giorno prima no 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 assolutamente io voglio passare una bella serata seduto sul tesoro mi immagino che la mia giornata di lavoro creativo che poi alla fine ti dà una shot nella testa di serotonina fantastica perché quando fai una roba creativa la vedi finita e dici wow esci fuori cazzo andresti sui tetti delle macchine a camminare e dici cazzo io voglio quella roba lì quindi io so che se io non parto adesso stasera sarà una serata di merda e quella roba lì di me funziona io lo io sai cosa sai quando è che faccio come fai tu quando devo andare a correre certo perché sai già che se non ci vai poi ti senti una merda che non sei andato e invece quando vai torni a casa che sei stanco ma è quella stanchezza che te la godi proprio no cioè che ti rilascia endorfina dopo qualcosa conina non so cos'è sì anch'io io lo sparo a casa io mi sono messa un app del cavolo nel telefono dove inizio a mettere il timer di quando lavoro e lo stop di quando non lavoro di modo tale che a fine giornata ho un'idea delle ore mi pongo il target voglio lavorare otto ore ma otto ore senza barare quindi se faccio la pausa caffè non sono otto ore sì ma io non ce la farei a segnarmi come quelli che devono segnare il giocatore quanti tocchi di palla passi più tempo a tappare per segnare che a lavorare no no io ho quattro task ho quattro task da fare principali così riesco a tenere il tracking ma deve essere semplice non può essere una roba complicata inizio poi vedo che riesco a lavorare più o meno 45 minuti ma lo fai anche per me controlli anche quanto quindi stai dicendo che lo fai anche a letto quindi tra l'altro però mi dà soddisfazione perché vedo a fine giornata il numero di ore che ho lavorato davvero perché in realtà poi alla fine prendo in giro me stessa non è che sto prendendo in giro comunque franci allora non so se voi lo fate io non l'ho mai fatto perché mi credevo di essere capito al di sopra di questo vizio utili il tempo di utilizzare il cellulare no quello mi spaventa non lo voglio io addirittura ho detto no porca troia una volta per sbaglio non so chi forse per far vedere mio figlio dice no ma guarda che il papà guardo porco tu meglio che non lo vedeva ragazzi chi è che usa il mio scioglio allora l'ho messo addirittura qua sai che nell'iPhone quando swipe a sinistra ci sono i widget cazzo è il secondo widget dopo le news è il tempo di utilizzo e io ossessivamente voglio stare sotto tipo Instagram non devo assolutamente superare qual è l'app più usata? Instagram ok io sono fanatico di Instagram e farei tutto io vorrei essere un tutt'uno con Instagram cioè vorrei avere un'intelligenza artificiale per poter assimilare tutto quello che c'è su Instagram Johnny Mnemoni esatto e devo stare sotto l'ora e io continuo a vedere quanto sono 31 minuti no e questa cosa non può essere tutta la vita così sarebbe una vita di merda però ti allena a utilizzare di meno a capire quando cazzo c'è quell'istinto da drogato lo prendo in mano tac a volte io chiudo Instagram e lo riapro cioè dico no basta Instagram ti ricompare no basta Instagram lo chiudo poi swipe e rischiaccio Instagram cazzo ma l'ho appena chiuso c'è sul desktop ma pure io ci sono solo icone di Instagram ma io dico lo chiudo poi scorro tutte le app e riclicco Instagram aspetta aspetta ok ricominciamo ma è incredibile è il motivo per cui io odio le piattaforme con contenuto verticale e a me stanno sulle palle poi io e lei facciamo contenuti verticali perché se fai sto mestiere li devi fare però io le odio perché perché alla fine dopo che sei stato mezz'ora lì ti senti proprio proprio di aver buttato via il tuo tempo hai quella sensazione di fastidio e quindi poi io sono un curioso quindi per me cioè avere tutte quelle notizie poi in realtà ci sono contenuti il mio problema è che i contenuti sono tutti belli poi lo uso come dire starter ma Instagram o TikTok? no no TikTok mi dà proprio una sensazione di malessere non riesco ad avere contenuti belli cioè no ci sono anche il problema che sono randomici e quella è la differenza ragazzi cioè una piattaforma come YouTube YouTube è un motore è il secondo motore di ricerca al mondo su YouTube ti cerchi quello che vuoi e poi chiaramente l'algoritmo sulla base di quello che hai visto ti propone cose anate TikTok è randomico adesso sì nei commenti scriveranno ma no su TikTok c'è anche il tasto cerca sì non lo preme nessuno il tasto cerca su TikTok tu rimani in quella sezione lì swipe e lui ogni dieci contenuti te ne propone la metà che è roba che tu non hai mai visto e non ce la fai anche se tu dici ok oggi uso TikTok ma schipperò tutte le stronzate e mi fermerò solo a vedere no se tu facessi così dico guardo solo i contenuti seri ce la fai al primo contenuto al secondo contenuto poi a un certo punto ti propone una roba che è una stronzata e il tuo cervello inconsciamente la vuole vedere quella stronzata c'è poco da fare e per quello che TikTok ha fatto questo successo enorme per questo motivo qua però è svuotante cioè è svuotante sono completamente d'accordo e poi e non dai attenzione gli dai attenzione 5 secondi poi vuoi il contenuto dopo ed è quello per cui la sera non riusciamo a guardarci un film dopo 20 minuti prendi il cellulare anche se non ti è arrivata nessuna push prendi il cellulare second screen ma infatti c'era la mia ex che lavorava per X Factor e X Factor aveva capito questa roba e avevano tutte delle app cosiddette di second screen per poter intrattenere le persone anche durante la trasmissione in modo tale che non facessero altro questa roba capito cioè tu avevi l'app di X Factor che mentre accadeva X Factor potevi fare tipo 5 o 6 cose ti tengo occupato da tutte le parti perché lo sanno che tu ti distrai che poi a sto punto dico i dati di audience della tv non contano più un cazzo perché uno la tiene accesa ma in realtà è sul cellulare ma sì lo sanno benissimo invece YouTube secondo me è ancora corretta come piattaforma perché quando tu forse ne abbiamo già parlato quando tu guardi un video YouTube da 10-15-20 minuti tu sai già in partenza che gli devi dedicare attenzione a quel contenuto ti siedi sul tuo divano te lo guardi sul tablet o spesso sulla tv ed è come Netflix ti siedi e gli devi dedicare attenzione non è lo swipe mentre stai cagando scusate per il swipe tra l'altro poco prima che entraste voi riflettavamo su queste cose ebbene sì noi anche fuori dai microfoni riflettiamo e su appunto la come dire l'ambivalenza del tempo che stiamo vivendo perché da una parte c'è TikTok ma dall'altra parte c'è sto trend di questi video senza parole di gente nella foresta che costruisce casette di legno piuttosto che vive che durano un'ora dove non parla nessuno ma no vi ho spazzesco parla del tuo feticio in questo momento che è guardare io adesso guardo gran gente che tosa le pecore ma perché poi è una perversione perché uno vede tutto il processo completo e poi vedi il prima e il dopo ed è quello che dici e vuoi arrivare alla fine ma ragazzi ma adesso vi stanno allora pecore tosate ok voi non le guardate ma adesso vi stanno io guardo tappeti lavati i tappeti lavati vedi che lo sapevo come si chiama quello mountain mountain carpet sì poi quello che come si dice che restaura cose tutte arrugginite oggetti tutti arrugginiti li ristaura gente che taglia prati non tagliati da una vita indiani che in time lapse montano piscine cioè ma quelle robe lì perché tu vuoi vedere il processo warm ah sì i vermi no lo guardo di brutto sì quello lì che ha la teca con i vermi ci mette una banana va in time lapse accelera i giorni e tu vedi i vermi che si mangiano la roba oppure rotten quelli che fanno vedere le cose che marciscano sì 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 un intero melone e poi c'è quello che butta quello che butta il metallo liquido fuso nei formicai poi lava pulisce tutto il formicaio tira su e viene una scultura fatta dal fulgine oppure quello che prende è una palla incandescente e la mette sui materiali fa tutti i video con una palla incandescente o le presse le presse la presse idraulica il canale finlandese più seguito è quello della presse idraulica ma ve l'ho detto che vi stanavo oppure gli slomo guys quelli che fanno tutti i slow motion quelli sono la presse mi incuriosisce si chiama Hydraulic Press Channel ed è un finlandese prestano qualsiasi cosa schiacciano cose e vedi come le monete i martelli le martis sembrano dentifricio perché è pazzesco vabbè comunque vedi comunque poi dall'altra parte c'è questa roba qua oggi mentre sempre ricordo noi riflettiamo a volte anche fuori da questi microfoni io dicevo che c'è una componente proprio di massaggio celebrale quando vedi questi video è un po' come quel trend non so se vi capita anche a voi di queste app di meditazione grafica dove praticamente tu devi vedere questi oggetti geometrici che si intersecano si muovono colori ti dice meditate with this app come la sigla la sigla DVD che è imbalza ti ricordi c'era già negli anni 90 questo è altro che Kali Yuga cioè qua uno deve meditare guardando una cazzo di grafica sul cellulare mamma mia però invece quella roba lì secondo me può dare una sensazione di benessere al cervello però è tipo secondo me più una droga cioè se tu pensi cioè ti stai annullando il cervello ti stai lo bombando non stai imparando una mazza perché non sto neanche imparando a tosare le pecore anche se adesso voglio provare anzi faccio un appello se qualcuna delle pecore me le fa tosare agli architetti digli di fare anche un recinto un corner una zona per tosare le pecore io devo tosare una pecore ragazzi perché a vedere tutti questi tiktok avete mai munto una mucca no però sarebbe figo cioè a parte che non è scellata devi proprio trovare la tecnica per mungere per sincronizzare per sincronizzare ieri ho visto passiamo di palinfasca ieri ho visto il film le otto montagne di Felix ah quello che ha vinto il David spettacolare e c'è una scena in cui causo Alessandro Borghese Borghese si chiama? Borghese Borghese ma qual è il vostro collega? esatto il mio giudizio potrà influenzare e insomma c'è mungeva la mucca così mi domandavo perché non è una cosa da tutti perché c'è il mio guru ecco anche io c'è il mio tormentone Werner Herzog che dice non potrai mai fare essere un ottimo regista di cinema se non hai prima monto una mucca così non lo spieghi ok fidati credo che voglia dire che devi sporcarti le mani andare a fare una vita vera non stare solo nelle scuole di cinema fare il fighetto per essere un artista questa massima nel vostro caso c'è nel senso che voi ho visto che vi mettete vi state messi parecchio fuori la zona di comfort anche a livello di contenuti perché siete partiti con un format che era quello dei ristoranti stellati che spacca perché effettivamente lì cioè apri una porta in un mondo dove le persone magari non tutti possono andarci quindi li raccontate eccetera però poi ho visto che ultimamente avete iniziato anche a fare una rubrica dove spiegate alle persone che si può mangiare anche con poco cioè uscite un po' ma allora abbiamo in mente un sacco di format che sono molto più complicati di andare in un ristorante stellato dove per ora per noi è abbastanza semplice nel senso che il plot narrativo è quello l'abbiamo fatto un milione di volte a parte i problemi basta pagare lì sì e poi ci sono tutta una serie di problemi contingenti come la luce l'audio eccetera da risolvere però comunque è quello il sommelier giapponese che parla un inglese madonna mia però a parte a parte questo quella è un po' una zona di comfort abbiamo in mente un sacco di altri plot narrativi storytelling relativi al mondo del food che stiamo cercando di mettere in piedi quello lì del panino era una una delle una delle cose è un anno che ci stiamo lavorando nel senso che è da un anno che io ho quell'idea lì e tra che abbiamo preso i contatti abbiamo incominciato io mi sono staccata e l'abbiamo girato perché per girarlo sono stati necessari se non sbaglio tre o quattro giorni anduti tornare tutte le volte andare e tornare quindi da un punto di vista di effort produttivo di tempo è stato molto dispendioso sembra una mega marchetta a quei produttori ma in realtà non lo è esatto quindi noi siamo molto contenti di aver provato a fare quello e ne vorremmo sicuramente fare degli altri e dobbiamo adesso continuare a uscire dalla zona di comfort e provare a fare cose nuove ma innanzitutto per noi stessi perché più facciamo cose nuove più ci divertiamo più ci vengono idee e più ci viene lo stimolo a continuare più facciamo sempre le stesse cose più siamo noi primi ad annoiarci e torni un po' in quel vortice di prima poi a me piace creare un contrappeso al tema dei ristoranti stellati nel senso che purtroppo per fortuna è il format che ci ha fatto avere il successo iniziale e spesso quando veniamo fermati per la strada qualsiasi cosa noi siamo quelli degli stellati che per carità non è che rinnego il format che ho creato però mi dà un po' fastidio il fatto di essere accostato a un mio format noi abbiamo sul canale tipo 200 erotti video quelli degli stellati sono tipo ampiamente saranno un quarto il grosso sono video di viaggi video di altre cose però c'è un sacco di gente lo sappiamo che tende a guardare solo quelli lì o comunque sono quelli quindi mi va di sottolineare il fatto che io e Franci non parliamo di ristoranti stellati io e Franci parliamo di storie di eccellenze di prodotti di qualità può essere anche il tortellino che ti fa la sdora o la lasagna della nonna facciamo le videoricette anche per quello e quindi questo format nasce anche col fatto di fare da contrappeso quel mondo lì sì mi piace molto e tra l'altro anche perché scusami se ti interrompo gli stellati e chi cucina nei ristoranti stellati non è che sono nati stellati un grande chef partiamo dal presupposto che è un ottimo conoscitore della materia prima ed è lui il primo fan del panino fatto bene della nonna che cucina bene cioè le basi di una persona che è arrivato ad ottenere tre stelle Michelin arrivano dagli argomenti terra terra della nonna che gli cucinava le cose buone e lui che ha imparato da lei di cui nessuno parla tutti vedono la fotografia finale lui che ha il ristorante tre stelle Michelin perché poi lui rielabora la tradizione non è che si inventa totalmente da zero le cose le rielabora in una maniera unica e in una maniera assolutamente eccellente però parte da un punto e tu lo devi conoscere prima di parlare di evoluzione tra l'altro gli stranti stellati io per deformazione personale essendo appunto formatore legato al mondo del denaro della finanza del business mi fa specie vedere che falliscono cioè tipo il norma fallito cracco leggevo qua 4,6 milioni di euro di 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 allora io su quello alcuni sono messi un po' io su quello vorrei in realtà entrare nel dettaglio perché siamo in posto giusto perché il punto è questo un imprenditore ha tante attività e un'attività come un ristorante stellato è la sua bandiera e quindi lui investe di modo tale da riuscire a fare altre tipologie di attività quindi io ci credo che l'attività di cracco sia in perdita ma la domanda è e le altre punto numero uno e punto numero due magari ha un piano a 3, 4, 5 anni per arrivare in pari o per evolvere quindi questi titoli sensazionalistici io li trovo molto semplificativi relativamente a quella che è la realtà dei fatti e bisognerebbe entrare nel dettaglio quindi lo trovo un esercizio che è utile per fare un po' di clickbait per scatenare un po' di haters che dicono ecco quelli lì non servono a niente sono solo dei truffatori poi alla fine sono in perdita la vera cucina è la cucina della nonna e quindi è molto quel qualunquismo che si scatena e la tv gioca molto su questa cosa ci sono stati dei programmi tv che abbiamo visto che hanno parlato di questa realtà degli stellati in perdita e ti dicono delle mezze verità quelle mezze verità che servono a farti a farti scatenare questi commenti di cui parlava Franci ma poi non vai ad approfondire veramente è come quando mi ricordo Jamie Oliver che io la mia community lo sa è un mio idolo forse ne avevamo parlato anche l'altra volta che è fallito pure lui ecco vedi anche lì non è vero cioè non è che è fallito Jamie Oliver ha chiuso diversi punti vendita che sicuramente per lui non è una bella notizia sì ma tu non vedi l'impero che gli è rimasto in mano lui ha letteralmente un impero quando hai un impero di quel calibro è anche difficile star dietro a tutto il giornalista se ne esce con il 3 adesso sparo una proporzione il 3% del suo impero che aveva ha chiuso perché sono quegli x locali e tu ti prendi una notizia parziale che Jamie Oliver ha chiuso x ristoranti nel mondo e sembra che stia fallendo ma tu non hai idea di quanto altro indotto ha uno come Jamie Oliver tra tv libri tutti i ristoranti che gli sono rimasti aperti e le mille altre cose che fa perché è uno che non sta con le mani in mano ma è uno che ogni giorno fa una roba nuova anche nei supermercati inglesi c'ha i prodotti ma c'ha di tutto Jamie Oliver c'è dal gelataio c'è di tutto non è impressionante poi ti può piacere non ti può piacere però io adesso mi legavo alla notizia è il bancarotta e tu associ quella roba lì e sembra che lui è sotto un ponte allora secondo me detto questo secondo me c'è un po' di verità dappertutto nel senso che parlando anche con Diego Diego Rossi lo saluto grande professionista che mi permette sempre di andare a mangiare al suo ristorante saltando la fila no scherzo però insomma come devo dire lo saluto gli voglio proprio bene anzi secondo me è il numero uno ciao Diego e così puoi continuare ad andare a mangiare tutto calcolato mi va benissimo anche il tavolo sotto quello che tieni solo per i tuoi amici sì però se è la metà della cena che mangia Davide però è nostra perché i numeri di questa puntata esatto questa puntata dobbiamo sfruttarla per di tutto tutti i benefici perché voi siete le star eccetera no quello che vuole dire è che quando parlavo con Diego era proprio il giorno in cui chiusero il negozio di Copenet in negozio annunciarono che il nome a chiudere e lui fa beh grazie al cazzo quello c'aveva lo stagista che lavava il riso c'aveva proprio una quantità di personale enorme un costo abominevole che non era sostenibile a lungo periodo allora difatti secondo me bisogna aggiungere altre due cose allora uno è che i ristoranti stellati a un certo punto si sono o si stanno non so alcuni magari si sono arrotati su una ricerca di perfezione e di esperienza estrema che da un punto di vista di costo può essere difficilmente sostenibile l'altra cosa è che ristoranti stellati a parte aprire un ristorante è uno dei business più rischiosi che esiste dove non mi ricordo la proporzione ma se dico che il 50% sono destinati a fallire secondo me non vado tanto distante perché perché tu devi gestire una materia prima che si deteriora facilmente del personale che da un giorno all'altro ti può lasciare a piedi dei clienti che oggi ci sono domani non ci sono e tu che devi essere sempre lì a presidiare in un mercato agguerritissimo dove ogni giorno spuntano novità quindi da un punto di vista proprio di business è uno dei delle attività più rischiose che tu puoi decidere di mettere no addirittura l'80% fallisce entro i 5 anni ok vedi ancora peggio di quello che ho detto io quindi quindi assolutamente aggiungeci questo a un rischio imprenditoriale ancora più elevato nel momento in cui decidi di correre un campionato che è il campionato dei top player perché se tu vuoi essere il noma devi mettere un quantitativo di soldi su quella macchina per farla girare per avere la visibilità e per emergere rispetto alla massa che indubbiamente è diverso rispetto ad aprire un bar in periferia se un vostro appassionato spettatore avesse l'ambizione di aprire il ristorante voi che ne avete viste a Bezzef quali sono le tre cose che assolutamente deve evitare di fare per avere meno probabilità di essere in quell'80% dei falliti pensa che lo volevamo aprire noi esatto questo è qua la domanda il ristorante è nostro prima ancora di aprire il canale adesso no è stata una sliding door nel senso che eravamo a un centimetro questo prima che aprisse il canale abitavamo a Torino lei aveva il sogno di aprire il ristorante la fissa e io le andai dietro come in molte cose dove le vado dietro eravamo a un centimetro dall'aprirlo alla fine stavamo per fare un'offerta a un posto che ci venne soffiata da un altro e dopo pochi mesi abbiamo aperto il canale youtube e io ringrazio quello è classico fallimento è come la tua costola rotta ma viva quel fallimento a me capita spesso sempre con Money Surfers abbiamo un mese prima del covid stavamo firmando per aprire una una zona di corsi dal vivo ma che ci sarebbe costata veramente tanto perché all'epoca insomma si faceva di più non c'era ancora la moda dello streaming eccetera e un mese dopo è partito il covid penso se l'avessimo preso saremmo falliti cioè lì proprio culo vabbè dai quelle sono le tre cose che uno e però non facendo noi quel mestiere allora io ti dico che cosa non ti do la ricetta per non fallire perché non sono un ristoratore di successo ma la ricetta è devi fallire esatto esatto ragazzi viva i falliti tre cose per fallire meglio allora allora ti dico che cosa mi piace in un ristorante cosa mi ci fa tornare perché poi alla fine è quella la cosa importante allora uno deve avere un'identità quindi avere un'identità non vuol dire avere un bel logo un bel brand vuol dire avere un'anima per cui io poi alla fine ho voglia di tornare traduciamola questa anima fammi un esempio cioè come fai a capire che qua c'è un'anima la senti non la senti e se è un'anima vuol dire che non hai copiato i piatti dal web non mi fai ghirigori a cavolo usi veramente della materia prima che conosci trapella la tua passione attraverso quello che io vedo traspare la passione che può essere anche come hai fatto il menu può essere qualsiasi cosa esatto può anche essere una cosa semplicissima ma tu quando arrivi in un posto ti senti a casa le caramelle dell'aribò non le conosco c'è un posto qua a Milano per fortuna non mi ricordo il nome così non mi denunciano però è la verità aveva quattro stelle e mezzo poi ho detto io distrattamente ero in macchina volevo mangiare con loro due dai andiamo qua perché dovevo andare in quella zona di Milano ho detto questo qua è quello che ha più voti andiamo là scopriamo che qua stia avevano preso un botto di voti perché mettevano gratis le caramelle no si mangiava bene si mangiava bene però c'era sta cosa senza senso c'erano i bidoni di caramelle su tavolo però ho quattro euro di coperto sì però capisci perché lì io non vorrei che sfoci anche nel fatto ah sì perché poi si è scoperto che questo qua lavorava l'aribò caramelle si occupava di distribuzione i dolciari certo la mia identità è questa mettere le caramelle e l'aribò non lo so cioè è sfuggente questa cosa sai qual è il primo segno dove io mi accorgo che uno sta lavorando bene quando entri e noi generalmente siamo due persone che attaccano la pezza sul cibo ma va quando andiamo nei posti e trovo il titolare o magari comunque chi lavora lì che appena io vedo che ce n'è anche dall'altra parte che lui non mi molla più quello è un segno che è un pazzo furioso e il ne abbiamo fatto mille esempi durante questa intervista no e quello è il primo segnale che tu vivi perché sei sei votato a quella causa lì quella cosa tu vuoi dar da mangiare cose buone perché sei innanzitutto tu che godi nel momento in cui le mangi se sei impezzato io so per certo che avrai degli ottimi vini perché sei impezzato folle quando andiamo adesso faccio un nome quando andiamo a mangiare andiamo a fare l'aperitivo e lì alla concorrenza che parliamo con Enrico infatti non volevo citare di nuovo la concorrenza perché sennò poi alla fine non riesco più ad andarci questa puntata è sponsorizzata da Diego Rossi no però lo vedi proprio parliamo con lui lui è proprio il classico hoste vero saluto Enrico tra l'altro lo conosco dove va a trovare i fornitori che trova il pazzo furioso che fa la caponata che fa eccetera eccetera e lì capisci che ha dei prodotti cazzuti perché c'è una ricerca dietro di un certo tipo e quindi a quel punto vado sulla fiducia in un posto così dammi quello che vuoi cioè fammi da mangiare quello che vuoi non ti ordino neanche e poi ovviamente c'è bisogno di essere un imprenditore quindi ci sarà tutta la gestione finanziaria che sarà sicuramente complessa di modo tale da non fallire quindi secondo me è difficile proprio perché devi avere una passione legata a quell'argomento lì e deve essere forte e dall'altra parte devi avere delle competenze per non andare in rosso tra l'altro una volta con Enrico abbiamo fatto una diciamo una metafora per capire come essere imprenditori migliori avevamo fatto la metafora proprio dei ristoranti cioè avevamo suddiviso in tre le classi dei possibili ristoranti no c'è quello che avevamo chiamato tela bianca cioè quello che praticamente mette dentro tutto cioè che non ha identità per esempio c'è tanti tanti piatti nel menù io quando vedo un menù troppo grosso aspetta quello non era il facsimile no facsimile e te lo dico subito invece pure c'è il facsimile cioè quello che vuole imitare un trend prendere qua tipo dove abbiamo noi l'ufficio a Chiasso è ridicolo perché c'è uno che ti vende le due cose più di moda del momento sono il pochè e la pinza cioè lui fa pinza e pochè insieme però ok e da bere il bubble tea esatto che ancora non so cosa sia tra l'altro lo sapete che è una moda incredibile i ragazzini vanno male esatto e poi c'è il terzo che invece è l'opera d'arte cioè quello che lo fa perché ne ha bisogno lui di fare quella roba lì cioè non è che va a intercettare cos'è che va di moda oppure voglio accontentare tutti con l'ansia di dire no cazzo se non metti devo coprire tutto il mercato esatto quelle due cose quelle due realtà lì sono secondo me deleterie quando vedi un ristorante che c'ha per l'ennesima volta la tartare di battuta di fassone il cacio e pepe il cacio e pepe un po' per fortuna sta diminuendo c'è stato un periodo cacio e pepe in tutti i ristoranti a me quelli col menù enorme mi fan paura cioè mi viene proprio voglia di cioè come fai come fai a poter produrre qualsiasi cosa che hai scritto qua dentro tranne poi i ristoranti cinesi i ristoranti cinesi siano questi menu è incredibile biblici forse i quelli con riso cantonese pollo alle mandorle poi ci sono anche quelli buoni ci sono anche quelli buoni qua a Milano è roba cinese seria ce n'è tanta è certo sì 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 no vabbè tra l'altro negli ultimi format che avete fatto posso c'è stato un momento che ho avuto un flash mi siete sembrati un po' tipo linea verde adesso con tutta la sì 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 ci sei tu che vai dentro nelle fabbriche di gorgonzola sì sì o mela verde perché poi alla fine mela verde sì esatto più mela verde c'è uno che ha scritto un commento che ho detto cazzo questo qui va nel secondo nella seconda puntata il commento era mela verde virgola ma fatto meglio per non dissare mela verde ma sarebbe stato bellissimo metterlo come titolo del video ecco però vedi infatti quello mi ha fatto molto riflettere cioè del tipo perché no ci sono degli standard cioè delle cose che magari possono essere anche rifatte in maniera migliore cioè per anche sto podcast cos'è gente che dialoga ma se ci pensi qualsiasi cosa può avere un riferimento di un'altra roba noi mentre lo stavamo facendo già sapevamo che era una roba che un pochino andava a imitare quel mondo lì perché è il mondo dell'intervistatore che va dai produttori e poi loro non fanno il panino alla fine se vuoi no esatto c'è la differenza è che io ti faccio vedere come mangiare tutte queste cose insieme però sì lo sapevamo ma in realtà a me non me ne frega niente che sia un'imitazione o di qualcosa nel senso che io prima di tutto per me stessa voglio andare in una fabbrica di gorgonzola e vedere come si fa il gorgonzola e lo voglio vivere io in prima persona e poi lo voglio raccontare l'ha già fatto qualcun altro ma di sicuro ma va bene in un ristorante stellato esiste già il video c'è già andato qualcun altro ma a me non interessa io voglio vivere la mia esperienza e raccontarla secondo il mio punto di vista questo per me è la differenza poi fare qualcosa di totalmente originale nuovo adesso nel 2023 secondo me è difficile no in realtà sai dove sta l'originalità? nel punto di vista nel fatto che sei tu che racconti quella cosa esatto cioè perché io ne parlo anche sempre con i colleghi content creator non è tanto il cosa racconti perché il cosa quel cosa lì che racconti magari lo raccontiamo in tanti oggi che fanno gli stellati se vai su youtube e scrivi ristorante stellato sono i mille che provano a fare i video sugli stellati e il come quindi l'originalità sta nel fatto che sei tu che parli di una cosa di cui parlano tutti ma l'originalità sta in te se tu riesci a emergere col tuo stile farai cioè i numeri alla fine vengono fuori e sarà forse anche un po' quello infatti cioè anche nel cinema ci sono i generi cioè nel western non è che ah è copiato John Ford no è un genere lo fanno tutti lo spionaggio però come lo fai? è lì che differenza Mission Impossible è uguale a Agente 007 ma non è uguale mi piace sono proprio due mondi totalmente diversi assolutamente no è chiaro ecco anche quello può essere una paranoia di qualcuno che non riesce a cominciare perché dice è già stato fatto tutto ma è sbagliato cioè io io questa cosa che sento dire ah youtube è saturo non mi butto perché youtube ma youtube sarà anche saturo ma c'è una cosa che manca su youtube il modo in cui tu fai i video finché non li fai cioè sei tu che manchi non è quello di cui parli bellissimo perché se un altro viene a raccontare i ristoranti stellati e lo fai in maniera sicuramente diversa da come lo faccio io è un altro contenuto diverso è bellissimo questa cosa qui è molto incoraggiante cioè per la tua voce manca ancora manchi tu ed è lì l'originalità ed è lì sì poi non è che basta che tu accendi la telecamera come abbiamo visto devi fare devi chiaro devi essere portato poi nelle cose migliori però invece la gente si cervella nel scoprire la nicchia scoperta ma tu puoi anche trovarla la nicchia scoperta però poi alla fine quello che trappelerà dai tuoi video è che tu non hai la passione per quella roba lì l'hai scelta perché era una nicchia scoperta e ti sei messo a parlare di lavastoviglie perché nessuno ne parlava ma in realtà si vede che di lavastoviglie tu non sei innamorato e allora chiudi dopo il terzo video sì 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 sono completamente d'accordo c'è una differenza però adesso mi spiace devo farvela questa domanda tra la prima puntata con noi qui è questa che all'epoca non avevate ancora iniziato a fare le cosiddette marchette insomma le pubblicità invece adesso le fate sì no all'epoca avevate detto no se arriverà l'occasione lo falleremo lo falleremo allora adesso sì ma allora detto che cioè parlo dei contenuti pubblicizzati la frequenza è ancora piuttosto bassa allora la frequenza in questo momento continua a essere bassissima e l'anno scorso ne abbiamo fatte 4-5 sì ma sempre con lo stesso brand praticamente no ce n'era un altro ok un paio di brand in un anno esatto noi siamo molto atipici come content creator cioè un content creator che ha i nostri numeri medi fa 20 volte le collaborazioni che facciamo noi ricordo siete vicini a 350.000 iscritte su youtube con quei numeri lì ne fai molte di più perché noi ne facciamo meno perché siamo dei fessi probabilmente sì ma anche per delle scelte che abbiamo deciso di intraprendere allora l'anno scorso abbiamo fatto 5 collaborazioni vado a memoria su 52 video ok questo più o meno quindi direi poche e su youtube ovviamente su instagram qualche cosina in più ma stiamo parlando di quei numeri lì perché 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 tendenzialmente non ci piace tanto farle perché quando le facciamo ci facciamo pagare per il valore che abbiamo e perché non facciamo alcune collaborazioni proprio con determinate categorie tipo i ristoranti non ci pagano pensavo stessi per fare un nome di un brand no 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 i ristoranti non ci pagano in nessuna situazione e non prendiamo né soldi né ci facciamo offrire il pranzo è successo in passato perché qualcuno si dirà ma avete fatto due o tre video è successo ora non lo facciamo più ma abbiamo capito che non è una cosa una cosa giusta da fare per mantenere diciamo una certa indipendenza che poi in realtà ragazzi i motivi principali sono due è come se io mi dico non mi faccio offrire il pranzo da bottura perché se no dico che bottura è bravo no fa ridere ok però meglio non farselo offrire cioè nel senso noi non facciamo video su commissione nei ristoranti per due motivi il primo è l'attendibilità di quello che diciamo altrimenti piove il commento per forza è buono te l'hanno offerto e va bene quindi questo è il primo motivo ma il secondo e più importante e reale motivo è che noi non vogliamo che né il ristoratore né chi guarda il video possa pensare che il valore di quello che stiamo facendo in quel posto equivalga a un pranzo offerto perché le cose non stanno per niente così non stanno più così ma per niente e quindi preferisco pagarmelo il conto o evitare che tu pensi che offrendomelo siamo pari e patta perché non stanno così le cose quindi me lo pago in più sono anche attendibile in quello che dico quindi con i ristoranti e ci scrivono tutti i giorni qualsiasi tipo di ristorante non facciamo collaborazioni né video su commissione i soldi possono arrivare da player del mondo travel quindi da brand del mondo travel dove è più facile che noi magari ovviamente il servizio che offrono deve essere un servizio per noi di valore se è un servizio che non conosciamo che non abbiamo provato che riteniamo non di valore ed è successo un sacco di volte non ti posso fare i nomi ovviamente noi diciamo no grazie se arriva una cosa di valore è più facile che riusciamo a farlo con il mondo del travel con il food è più difficile per il tema del conflitto di interessi capisci e Francia ha tirato fuori qualcosa sì ho tirato fuori il quaderno perché non so se mi addentro nel mio quadrino di appunti ma perché io volevo spiegare sia ai content creator che secondo me molti sono giovani e non hanno non hanno la percezione di quello che fanno sia a chi lavora con un content creator come si fa a capire quanto vale una collaborazione perché è qualcosa di intangibile ti possono chiedere uno ti possono chiedere un milione e tu lo guardi dicendo ma perché ci sono tre sostanzialmente asset di valutazione il primo è il valore della persona in sé decido di fare una collaborazione faccio a caso riso scotti con gerry scotti perché perché ha tutta una serie di valori che vengono riflessi sul brand perché voglio lavorare con lui perché casualmente ha il mio stesso cognome si allineano i pianeti è proprio è proprio lui che voglio quindi che valore ha la persona in sé che parla del tuo prodotto la seconda è il valore della produzione qual è il tuo costo opportunità di fare un video se tu chiami al tuo matrimonio uno che ti fa un video quanto lo paghi tanto ok o che ti fa uno shooting fotografico lo paghi quindi c'è un valore proprio di produzione fisica perché perché ci sono delle macchinari ci sono delle expertise c'è il montaggio e tutto quanto il terzo asset che è quello che vale più di tutto a mio avviso nel momento in cui si parla di determinati personaggi poi se parli di Rihanna ovviamente stiamo parlando di altri campionati e il valore del media il valore della rich media quante persone io riesco a raggiungere con quel determinato video e come lo valuti lo valuti nel costo opportunità che io avrei nel momento in cui devo pagare facebook youtube instagram per far vedere un mio video 15 secondi dove tu sei il brand dove io sono il brand io sono il brand e dico io ho questo video di 15 secondi voglio farlo vedere a mille persone quanto mi costa? quanto mi costa? quanto ti costa? allora l'unità di misura di una di un'attività di questo tipo è il cpm cioè il cost per mille mille impression views o impression views se si tratta di video impression se si tratta di banner io quanto quant'è questo questo cpm? questo cpm possiamo dire in linea teorica quindi non è non è un valore perché è un argomento complicatissimo dove ci sono delle persone che studiano e fanno dei master e ci sono dei centri media specializzati in questo quindi è un mestiere complicatissimo però semplificando uno può dire ok potrebbe valere 5 euro ipotizziamo è un numero sparato a caso non è così sparato a caso ci sono dei range però ipotizziamo che per parlare a mille persone per 15 secondi io debba spendere 5 euro quindi perché mi sono fatta il disegnino qua di modo tale da fare il calcolo perché poi alla fine viene un numero enorme che uno dice wow se io ragiono per un secondo quanto vale vale 0,333 secondi ok quanti secondi facciamo vedere noi un parliamo di un ristorante stellato ma può essere qualsiasi cosa noi lo facciamo vedere per 20 minuti 15 a seconda del caso facciamo 20 minuti che sono 1200 secondi quindi moltiplico 0,33 per 1200 e dopodiché lo devo moltiplicare per 200.000 persone che lo vedono che lo vedono 200.000 diviso 1.000 quanto fa questo numero? questo numero fa un po' paura sentir la risposta sì no fa 80.000 fa 80.000 euro allora è un numero che io non pagherei mai se io fossi un'azienda a una a un content creator ma banalmente perché se hai 100.000 euro diversifichi o perché hai una strategia che non è one shot su una sola persona su un solo video lo diversifico sulla parte di secondaggi pre-roll youtube lo diversifichi sulle affissioni lo diversifichi media tradizionali lo diversifichi in n modi ok quindi poi lo devi dimezzare perché magari dici ma sono 200.000 euro però in realtà è il 50% quindi diventa 40.000 poi dici però magari non parlano con il ton of voice se esattamente che vorrei io perché se mi faccio io i miei 15 secondi me li faccio come dico io me li faccio come dico io con il regista che dice quello che voglio io che fa vedere il prodotto come voglio io magari tu non lo mostri e quindi di mezzi quindi a un certo punto ovviamente non è un valore di mercato questo però per me è interessante mettere questo numero qua che è un numero assurdo per far capire quanto vale il costo opportunità che una persona che non è assolutamente in questo campo qua e su cui io non potrei mai fare un discorso di questo tipo perché un ristoratore non ti segue non mi segue al cpm si è già impiccato e poi tu sembreresti un venditore di folletto esatto quindi io ha un valore altissimo quindi bisogna poi ovviamente calcolare i secondi calcolare il target a cui lo stai facendo vedere perché il vantaggio di lavorare con piattaforme con youtube instagram facebook e che tu puoi essere molto preciso molto targetizzato dire lo voglio solo far vedere a quelle persone che hanno quel determinato interesse eccetera e su youtube ci sono mentre invece il mio target è per assurdo su canale 5 peschia strascico infatti tra l'altro secondo me per assurdo ci siamo dimenticati che è una roba in quella triplice osservazione che hai fatto c'è il fatto che quando qualcuno viene dentro di voi e ficca dentro roba dentro di voi beneficia della storia della relazione che voi avete con i vostri follower chiamateli come cazzo volete è il valore del personaggio è quello che ti dicevo è il valore di Jerry Scotti Jerry Scotti è qualcuno che è tuo zio ti fidi di Jerry Scotti perché c'è un'empatia è il valore del testimonial tu hai il valore del testimonial il valore della produzione è il valore della rich media però vedi Jerry Scotti non fa la pubblicità di come fare il presentatore cioè non so come dire Jerry Scotti che vende il riso non è come voi che vendete il food perché Jerry Scotti col food non c'entra un cazzo invece voi avete quella è una vera marchetta esatto voi invece portate sia la relazione ma anche effettivamente oggi abbiamo parlato di food per due ore il know-how è diverso cioè se io chiamo George Clooney che mi vende il caffè porto George Clooney il caffè ma George Clooney di caffè non sa un cazzo no però te lo rende cool ha capito quindi è un po' novecentesca sta roba cioè non so quanto durerà ancora il fatto che arriva cala dall'alto il personaggio strafigo e tutti comprano un espresso perché mi sembra una roba che se Brad Pitt che faceva la pubblicità del caffè a me mi ha convinto lo so sì però per un motivo completamente diverso cioè non so in senso invece quella roba lì è in più perché voi portate la vostra autorevolezza utopisticamente sarebbe bello un mondo dove il testimonial crede veramente nel brand che lo paga e quando succede quella roba lì nel vostro ma è per quello che adesso tutti vengono vogliono venire perché voi portate non solo la notorietà banale volgare pornografica ma l'autorevolezza la community la community si fida del creare la cosa più adesso se Galeazzi dice una roba di tecnologia non è come se la dice che cazzo ne so Amadeus ma per me Galeazzi per me è talmente tanto diventato il mio il mio guru del tech che io e probabilmente non credo di essere l'unico quando voglio comprare un oggetto non vado su Amazon io vado su YouTube e voglio il suo video e se il suo video non c'è mi incazzo perché voglio comprare quell'oggetto lì capisci la cosa più preziosa che i content creator hanno è la fiducia della propria non sono i soldi che ti paga il brand lo so è una cosa paraculo la dico lo stesso la cosa più preziosa che io e Franci abbiamo è la fiducia dei nostri follower e io quello che voglio evitare è prendere i soldi e parlare di una roba che non mi piace o che ai miei follower non serve tu fai una marchetta sbagliata e ti sputtani 5 anni no probabilmente con una marchetta sbagliata non ti sputtani ma se ne fai una ne fai anche due ne fai e no perché la montagna si sgretola il tuo tesoretto si sgretola piano piano e quello è il problema non li perdi tutti subito li perdi piano piano e non te ne accorgi e allora è per quello che io e Franci facciamo pochissime di queste cose qua e quelle che facciamo ci crediamo quando parliamo di NordVPN che non ho problemi a citare perché tanto alla fine il grosso che abbiamo fatto l'anno scorso è quello è vero è un servizio che mappa tutta YouTube probabilmente la gente si è anche un po' rotta le scatole di sentirlo però è un buon servizio l'abbiamo provato funziona bene i pianeti si sono allineati anche da un punto di vista dell'accordo economico perché poi non è un segreto che veniamo pagati e allora io parlo volentieri di un brand che mi dà un buon servizio e che mi paga quello che io chiedo tipicamente non so se te l'abbiamo detto l'altra volta tipicamente i brand che hanno i soldi che vogliono lavorare con noi a noi non piacciono e i brand che piacciono a noi non hanno i soldi di solito è questo mi ricordo mi ricordo il pastificio mega autentico capito quello là diceva raga gli 80.000 della Franci ma no ma io non posso neanche non chiediamo quelle cifre lì noi non chiediamo nessuna cifra cioè questo è il punto no ma se le dovessimo chiedere non sarebbe mai quella che hai detto ma è che comunque noi abbiamo fatto non posso dirlo per evidenti motivi di commerciali però noi abbiamo appena finito la collaborazione con Leonese Imbruttito servizio fantastico perché noi avevamo un'intuizione che ci fosse una un incrocio dai tra il nostro target e loro ma loro ti danno chiave e mano cioè tu non fai niente ti danno la sceneggiatura ovviamente poi con massima flessibilità nel senso che ci hanno mandato uno script non ci è piaciuto ce l'hanno rifatto totalmente diverso ci è piaciuto siamo andati avanti due due location due troop ma c'è una roba incredibile due regi c'erano pure due registe a un certo punto infatti non sapevamo più a chi cazzo dare ascolto che litigavano tra di loro però insomma l'atmosfera era bella attesa seria attori montaggio pushano anche su un po' di marketing delle contenute cioè insomma non sono quelle cifre che hai detto tu ma ti dirò che comunque sono i di zeri sono quattro ed è interessante perché comunque per un brand io non sono né stellantis che cazzo ne so non sono apple non sono niente però per noi era una figata l'abbiamo fatto alla fine perché comunque sappiamo che nel lungo termine ci torna il punto è che è un mercato che assolutamente non si conosce è difficilissimo capirne il valore bisogna essere dentro per avere la sensibilità sui numeri scusi aggiungo ed è pieno di ciarlatani ed è pieno di ciarlatani perché l'altra cosa che io noto è che quando ci avviciniamo a un brand noi per me e Franci è più facile quando andiamo a una fiera e ci sono i brand del food che ci conoscono e sono loro che ci tirano dentro e lì è in discesa perché se devo andare io a vendermi lo faccio l'abbiamo anche fatto ma a parte che ci sentiamo molto venditori di folletto perché notiamo che spesso le altre persone non capiscono proprio quello che stiamo dicendo e poi ci sono un sacco di brand che si sono bruciati si sono scottati scusa si sono scottati con ragazzi inutile dirlo nei social c'è anche un sacco di gente finta che poi vabbè ci sono alcune piattaforme dove non lo dico io lo sanno tutti dove ti puoi pompare i follower e se il brand non è in grado di leggere correttamente i numeri dai in mano le attività a gente che non gli ridà indietro niente di valore e a quel punto quello chiude gli si chiude la vena e non collabora più con nessuno e quindi quando arrivano anche quelli quelli corretti quelli che lavorerebbero bene per te è un mondo di gente o di ciarlatani o di gente che vabbè sì pure mio cuginetto fa i video su youtube cioè non sei uno serio noi non veniamo mai equiparati ai giornalisti no ma infatti sai io conosco l'amministratore delegato di Buzzole Basole che è ah Basul Basul scusa Gianluca Buzzole no vabbè Gianluca non mi parla più Buzzole sembra un paesino in Toscana Buzzole andata Buzzole cazzo lui è un genio è veramente un genio è veramente un genio oltre che un amico e lui sa cosa ha fatto cioè lui ha creato ha fatto un po' quello che facevamo noi cioè una è un accentratore di ma lo sapevo l'avevo visto cos'era Basul di micro medio influencer lui ha una piattaforma che ti dà in mano te sei un'azienda dici voglio fare una roba boom boom ti crea tutta una una serie di un palinsesto dove che è ottimizzato secondo il tuo target di micro influencer cioè incrocia i content creator con i brand sì 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 ma in una maniera che lui vorrebbe addirittura poi mi ha spiegato i progetti futuri non so se li faranno rendere ancora più efficiente con l'intelligenza artificiale insomma è veramente un genere un piattaforma veramente figa e lui mi ha detto quello che mi avete detto voi sai come l'ha risolto con la formazione cioè lui ha iniziato a fare dei corsi gratis per i brand per i brand dicendo ragazzi vi spiego io come gli ha fatto un corso e allora poi capiscono perché tu come dici tu se non sai che cosa ti sto vendendo non lo comprerai mai quindi hai bisogno di fare un salto di formazione proprio di consapevolezza e lui ha investito ha capito ha capito cioè perché sapete qual è la verità che non si tornerà mai più indietro cioè non torneremo mai più cioè sarà sempre di più così e io più noto voi siete grandi oramai come fanbase però siete ancora con duri e puri quindi siete ancora concepiti come autentici però più sono piccoli gli influencer più sono autentici secondo me perché quando si dicono una roba cioè ci credono veramente perché lo stanno facendo ancora non è un'azienda no e quindi sono ancora più autentici quando non sono pagati dico cioè nel senso io se dico io non faccio un influencer però se dico mi sono trovato bene con questa tenda lo dico perché mi piace certo quando i numeri si ingrossano fai fatica a tenere la barra dritta ma sono d'accordissimo è un attimo che ti dici che molli a quella roba lì è un attimo però ecco quello ecco lì è un altro discorso che poi andranno formati i content creator per capire come miscelare bene come miscelare bene però quel volo lì di basul è corretto perché la fetta di soldi che loro poi si prendono dalla collaborazione è giusta perché tu content creator stai pagando parte del tuo guadagno col fatto che non devi fare il venditore di folletto ma c'è qualcuno che per te ci sta secondo me ci sta c'è un'agenzia digitale diciamo cerca di digitalizzare automatizzare voi non avete un agente? no no non abbiamo l'esclusiva con nessuno perché adesso quasi tanti creator proprio per non dover interfacciarsi in prima persona ma perché io non mi concepisco come un influencer io voglio essere un progetto editoriale a parte che l'influencer non è un mestiere esatto è più una conseguenza non è un lavoro l'influencer cioè lo diventi se da quel lavoro che stai facendo la gente comincia a fidarsi di te certo no perché la parola influencer è una roba che mi fa venire anche a me un po' di psoriasi però ecco non pensate che sia funzionale avere qualcuno che appunto si interfaccia il posto vostro con i brand ma il punto è che noi siamo talmente di nicchia e vogliamo sempre di più diventarlo in termini di specializzazione in ambito food ma specifico nel senso che è piccole realtà premiumness gente pazza invasata per determinati argomenti che io come faccio a trovarmi una gente che parla la mia stessa lingua e che sa individuare quello che io voglio fare non c'è perché tendenzialmente sono dei delle agenzie più generaliste che abbracciano più tipologie di content creator e non hanno in mente il mio progetto editoriale io voglio andare in una direzione super precisa di modo tale anche da differenziarmi rispetto alla concorrenza piuttosto perderò qualche contratto navigare a vista così perché non c'è qualcuno che l'ha fatto prima di voi la maggior parte dei creator oramai veramente lavora ma io non sono creator io voglio essere un progetto editoriale che è diverso cioè nel senso io voglio produrre contenuti che vadano al di là di fare la singola marchetta io voglio essere riconosciuta per il valore dei contenuti che io produco paradossalmente cioè adesso voi al di là delle youtube in questo momento è youtube 100% youtube più qualche non 100% ma il grosso esatto non è sostenibile non è sostenibile perché da un punto di vista finanziario hai un unico fornitore youtube ogni quanto paga? ogni mese mensilmente sì 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 difatti solo che ogni mese ti arriva un numero che tu prendi per buono non è che c'è tu non hai il controllo non hai il controllo sì ci sono gli analytics che ti dicono però il cpm lo decide l'algoritmo e la visualizzazione lo decide l'argomento tu non hai nessun tipo di controllo tu hai degli ottimi analytics che ti permettono di monitorare la situazione ma tu non hai nessun tipo di controllo soprattutto quando esce il tuo video non sai se farai le views di domenica scorsa esatto quindi da un punto di vista di modello no è red non è green però a lungo io voglio avvicinarmi a essere un progetto editoriale e non a essere una piattaforma dove fare influencer marketing che significa che io avrò la pubblicità all'interno dei miei servizi però sarà fatta e diverso rispetto a ragionare con oggi collaboro con il brand X poi il brand Y eccetera e questo significa incrementare le piattaforme su cui stiamo lavorando significa creare dei servizi rispetto a delle attività che stiamo facendo che magari potremmo monetizzare che adesso bisogna prima le mettiamo ritorniamo fra un anno e vediamo che cosa siamo che cosa abbiamo sviluppato paura paura tornate non so quindi significa ragionare in maniera in maniera diversa rispetto a quindi avete delle idee avete già delle una strategia sì assolutamente bisogna capire come scaricare la terra esatto bisogna scaricare la terra adesso insomma primo di febbraio mi sono staccata quindi insomma siamo ancora sono staccata lei fino a gennaio aveva un altro lavoro a cazzo da pochissimo ok quindi adesso è il momento di ok mettiamo fix the basics fix the basics e poi ora si costruisce sui basics però prima si fa quello e quindi l'obiettivo è fare non necessariamente seguire quello che fa che fanno gli altri che fanno gli altri perché quella è la strada io voglio provare a trovare una strada nostra questo è un po' comunque lavorare con le agenzie che ti fanno da intermediario ci può anche stare il problema come diceva Franci è che si crea quel telefono per quanto tu possa abbriffare perfettamente l'agenzia non sarai poi tu a interfacciarsi col brand ma saranno loro e quindi ci sarà un minimo di telefono senza fili anche perché se sfanculi tre, quattro, cinque clienti poi ti sfancula anche l'agenzia bravo esatto esatto capito esatto quindi quindi questo è un po' ragazzi siete in un momento veramente interessante questo sì perché è il momento in cui c'hai il foglio bianco davanti che è anche quello più spaventoso esatto però no a me non spaventa il foglio bianco è come quando ti dico un argomento a piacere ma ok che rimani così di fronte ai progetti che avete in mente come intendete approcciarli cioè nel senso voi provate a fare qualcosa vedete se funziona se non funziona cioè sperimentate investite del denaro cioè investite tempo l'obiettivo è investire tempo e denaro innanzitutto definire qual è la strategia di lungo io ho il mio OGSM dell'anno quindi io faccio finta di capi faccio sì l'OGSM è una se non sbaglio una tabella inventata dal Boston Consulting Group dove tu in una matrice banalissima hai obiettivi goals strategies and measures di modo tale che tu hai quelle che sono le tue priorità dell'anno e le monitori mensilmente quindi io al primo di gennaio ho fatto l'OGSM del 2023 dove sapevo quali erano le mie debolezze e quindi i miei punti di forza e ho definito quali erano le attività da fare quindi quello io ce l'ho e quello è il mio faro non mi ricordo più qual era la domanda sì no nel senso cioè come che tipo di approccio hai nel senso visto che vi state come dicevo prima navigando a vista ah sì scusa hai ragione e poi ci sono ok nel momento in cui ho il GSM io ho le priorità dopo che ho le priorità a quel punto dico ok qual è il cavallo su cui vogliamo puntare questo qua si mette il budget ovviamente non ci metti il tutti i soldi che o la va o la spacca però insomma ci investi credendoci e dedicandoci del tempo e poi da lì capirai come aggiustare il tiro perché di sicuro lo devi aggiustare per definizione non è che decido che quella è la strategia devo andare da A a B con una strada lineare la strada non sarà lineare e probabilmente il punto B si trasformerà in B1 B2 B3 e il mindset che tu devi avere relativamente a questo priorizzi il tuo tempo e qualcosa degli altri progetti alla fine non riuscirai a farlo e slitta così figata ragazzi che donna ti sei trovato potrebbe essere presa sia positivamente che negativamente meno male che il CEO sono ancora io solo sulla carta però perché poi in realtà sto lavorando più adesso di quando facevo il lavoro quello tradizionale e tra l'altro ecco lavoro più adesso di quando facevo il lavoro tradizionale mi domando se avete una disciplina interna nella coppia può smettere di parlare di lavoro però non lo so perché tu hai detto che non capisci più se è lavoro o non è lavoro la risposta è quella cioè non vediamo più il lavoro come tale e il tempo libero come tale è tutto un mischione cioè il sabato e la domenica non esiste non ti dico e sono tutti i giorni sabato e domenica sembra che non facciamo un cazzo se ti dico così però non c'è più c'è un flow c'è un flow continuo di lavoro e divertimento che detto così lo so sembra la vita più bella che esista no ma guarda dove bisogna andare per forza al giorno d'oggi o fai così o non funzioni la gente lo percepisce io non cambierei il mischietto suo c'era Lorenzo Giovanotti che io lui abbiamo visto che adesso è andato a fare lui lo fa ogni volta che fa questi viaggi in bici ah che figata adesso ho fatto di nuovo ha fatto quello sull'Equador Aracatà e Colombia e lui dice proprio questa frase allora innanzitutto perché lui fa questi viaggi in bicicletta di cicloturismo estremi cioè veramente io spero che resista ancora a vivere perché sono veramente pesantissimi e lui dice per me questa è ricerca e sviluppo cioè sembra che io mi sto divertendo poi è un po' pre culo come lo siamo tutti noi sembra che ma è lavoro è ricerca e sviluppo sia per le cose che si è detto prima sul viaggio cioè il fatto che il viaggio che hai detto anche tu il viaggio ti stimola il viaggio ti aiuta a vedere le cose in maniera diversa e ad aprirti però lui dice anche il fatto che io viva delle emozioni di un certo tipo mi serve per poi trasferirle a chi ascolterà la mia musica e quella roba lì è indispensabile per chi fa un lavoro creativo cioè non puoi non vivere tu in prima persona il godimento che poi darai ai tuoi d'accordissimo no è un po' quello cioè quindi la serve per i sensi di colpa che tutti noi crediamo la sindrome dell'impostore credo che non abbandoni nessuno di noi io ogni tanto ce l'ho infatti in Costa Rica sono stato punito dici vai a fare surf money surfer pam punito noi ce l'abbiamo costantemente però sappiamo anche che ci facciamo un mazzo tanto io mi rendo conto che le persone quando ci incontrano per la strada e ci fermano spesso ci guardano alle volte ce lo dicono anche facciamo una bella vita ma facciamo una bella vita io sono molto contenta della mia vita ovviamente però il modo in cui lo intendono loro è non fate un cazzo dalla mattina alla sera questa è la traduzione di fate una bella vita le cose non stanno così noi la maggior parte del nostro tempo siamo lì questa settimana tipo lunedì e martedì non siamo usciti di casa poi a un certo punto non mi ricordo martedì siamo andati a fare la spesa solo perché pioveva dai c'era c'era una bella giornata sapeva l'aria di estate così io dico wow ma è una figata pazzesco oppure siamo andati a fare la colazione non mi ricordo e io dico ah sì a un certo punto mi hai portato a fare colazione e io ho detto scendiamo una metro una fermata di metro prima per fare un pezzo a piedi così faccio un pezzo a piedi e non ritorniamo subito in casa per carità non è che siamo chiusi in miniera a lavorare no però dalle 9 alle 18 siamo chiusi in casa però spesso siamo lì come due criceti criceti perché giustamente poi i contenuti vanno scaricati a terra però siamo stracontenti cioè io non tornerei mai indietro no neanche io è super ma non so se farò questo lavoro per tutta la vita cioè mi ricollego a quello detto nei primi cinque minuti magari ricambiamo e si evolve in qualcos'altro però cambi da una prospettiva diversa cioè il fatto che sei passato attraverso questo progetto ti permetterà di affrontare il prossimo con una consapevolezza esatto ed una struttura diversa sei d'accordo? perché sei uscito da zone cioè ecco quello è molto motivante per le persone fallire è una qualcosa che però ti struttura ti insegna a essere ti insegna a essere flessibile sì 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 io siamo stati noi per vent'anni siamo stati rigidi come due pezzi secondo me non siamo stati rigidi nel senso che io noi stiamo capitalizzando su tutto quello che abbiamo costruito prima nel senso che sembra che a un certo punto siamo stati letargo per vent'anni sembra che siamo stati collegati a Matrix esatto come dici tu e adesso siamo redpillati come dicono i giovani giovani su Twitch siamo redpillati e quindi vediamo la realtà in maniera diversa no vabbè no però però il punto è che io non voglio neanche accartocciare tutto quello che ho imparato prima no porca miseria a me è servito cioè la struttura adesso arrivano da lì quella cazzo di roba che ci hai portato fa paura inquietà sei la prima creator e io ti chiamo creator nonostante tu non voglia essere chiamato creator che arriva su questo tavolo e mette un cazzo di cose con i numeri le formule se non avevi fatto la vita di prima quel cazzo che avevi le formule cioè gli altri youtuber non ce l'hanno poi possiamo parlare del fatto che mentre parlavi di questo sono crollati gli ascolti però questo è un altro un altro paio di mai però no perché è anche tanto numeri quello che facciamo non è solo solo creatività però no io sono super contenta di quello che ho fatto prima sono contenta però anche che ora sto facendo tutt'altro aver lavorato sotto padrone per vent'anni non è da rinnegare non è solo sotto padrone in aziende estremamente strutturate con grandissimi challenge che ci venivano fatti con una realtà che abbiamo dovuto gestire tutto quello che impari poi te lo porti dietro è come i puntini che si uniscono di viene da dire jeff bezos ma non è jeff bezos la settimana enigmistica no ci pensavo anch'io no è di apple ah di steve jobs di steve jobs assolutamente guarda io non so dico le stesse cose vostre veramente che noia no no ma è il trucco dell'intervistatore ripetere quello che ha detto l'intervistatore no mi viene confermato perché ogni tanto dico cazzo magari dico delle cagate però effettivamente lo vedo anche io nella mia vita di tutti i giorni lo dico anche ai ragazzi che lavorano con me e mi rendo conto che caspita effettivamente se non avessi avuto quegli anni io lavoravo in una compagnia telefonica cioè non si sapeva bene in azienda come organizzarsi lo staff meeting la cosa del calendario cioè quelle cose anche banali oppure imparare anche tu mi immagino che avrai imparato anche dalle tue i tuoi responsabili la leadership no vedere come eh quella cosa importante cioè se non hai mai visto un leader come cazzo fai a diventare leader cioè impossibile come dicono i motivatori leader di te stesso soprattutto o se non hai mai se non hai mai negoziato esatto cioè come fai esatto ti contatta l'agenzia di turno ti contatta il brand devi avere anche delle skill da un punto di vista ma infatti o banalmente conoscere quali sono le esigenze cioè avendo lavorato parte brand noi sappiamo quali sono tutti i casini che ha il brand l'agenzia dall'altro lato ci siamo stati posso dire una cosa banale saper scrivere una cazzo di email posso dirlo allora io ho fatto 20 anni in un'azienda ho lavorato per 20 anni in banca in direzione però non ero in agenzia e lei ha lavorato lo sanno tutti per Ferrero poi negli ultimi anni per Amazon quindi diciamo che un email in piedi la sappiamo mettere no ma riceviamo ogni tanto delle robe non so neanche come chiamare cioè della gente che non sa neanche proprio scrivere un email formattare un email hai citato Steve Jobs lui la prima cosa che faceva era vedere come scrivevano le persone ed era il 90% della selezione cioè capisci se uno non sa scrivere non sa pensare sono d'accordo quello è un biglietto da visita che già mi sta dicendo chi sei ma non parlo dell'A senza H o dell'E senza 100 proprio anche non saperla formattare non saper scrivere un oggetto cioè ci sono un sacco di cose che prima ancora che poi chiude a sentiamoci facciamo una call ma io prima di farla call al 50% ti ho già conosciuto da come hai scritto quell'email cioè bisognerebbe fare un po' di consulenza cioè secondo me è un argomento su cui fare anche un po' di consulenza saper scrivere un email no no assolutamente è una cartina tornasole cartina tornasole pazzesca della qualità di una persona della chiarezza mentale perché il problema è di saper scrivere una mail che deve essere le idee chiare prima molti che non arrivano al punto che ti fanno dei pre quelli che ti scrivono due righe o quelli che te ne scrivono 150 e nelle prime 149 il discorso parla di loro perché io 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 ma scusa ma per un attimo mi mandi un email perché vuoi fare una collaborazione ma mettiti per un attimo per un attimo nei miei panni qual è il mio valore il tuo vantaggio qual è il mio vantaggio brava qual è il mio vantaggio nel voler collaborare con te o nel voler anche solo rispondere alla tua email cioè prova a pensarlo un secondo mi stai scrivendo perché vuoi la mia attenzione mettiti anche nei miei panni no gente che ti scrive 100 righe di cosa ha fatto chi è dove lavora tutto quanto e io perché dovrei fare sta cosa sai come mi hanno chiesto una collaborazione qualche giorno fa io faccio foto di solito fotografo ragazze però mi ha scritto un ragazzo ha scritto richiesta di collaborazione nell'oggetto no 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 questo era il messaggio è il messaggio fantastico che cosa sono un chatbot che mi dice talk to human è bellissimo caro placeholder nome utente ma vabbè lì è quando è bulk le mail bulk che le stanni dopo un secondo no era un messaggio su instagram ah ok quindi non è che devi scrivere richiesta di che cosa però richiesta di collaborazione già io fotografo solo donne tu sei uomo quindi parti male quindi almeno un po' troppo ermetico allora vabbè c'è Gabriele che saluto che è un ragazzo che lavora con noi fa un po' da redazione monta i video insieme a Filippo che vedete nelle clip che facciamo il money surfer sì ciao con il bazzaro atomico mi ha proposto questa cosa di fare questa domanda alla fine dell'intervista e sperimentiamo visto che abbiamo parlato di questo vi sentite persone di successo? allora innanzitutto questa domanda non c'è mai stata posta allora è già una cosa è già tanta cosa allora io non so perché bisognerebbe dare la definizione di cosa vuol dire una persona di successo io in questo momento sono estremamente soddisfatta di quello che sto facendo quindi se la definizione è sei soddisfatta di dove sei cosa fai e sì la risposta è sì ma non perché sono nota poi parliamone nel senso o sono su youtube non è non è quello il punto il punto è sei soddisfatto sei dove vorresti essere a entrambe le risposte a entrambe le domande la mia risposta è sì quindi sì se vogliamo catalogare come persona di successo una persona che fa è riuscita a mettere in piedi quello che gli piace e e ha ottenuto anche la fiducia e il seguito di altre persone allora sì assolutamente sì perché io avevo visto un grafico un diagramma di Ben o non mi ricordo cos'era dove sostanzialmente diceva come le persone misurano il successo tipo al 50% era lo stipendio o all'85 eccetera o la o la definizione da un punto di vista lavorativo che che grading avevi che titolo avevi e poi tutto il resto in realtà la torta le fette sono molto più ampie la salute il tempo libero la famiglia l'amore quello che fai perché ovviamente quello che fai come lavoro occupa gran parte del tuo tempo però è molto ricco quello che definisce una persona di successo quindi visto che su molti aspetti della mia vita io sono soddisfatta e anche se sono sempre insoddisfatta nel senso che voglio cambiare evolvere fare di più però io sono con te sono dove voglio essere è gratificante quello che facciamo e allora da quel punto di vista lì mi sento una persona di successo se dovessi basarlo sui soldi no nel senso che non è la mia priorità cioè ovviamente poi ovviamente è una priorità ma non è l'unico non è il driver l'unico elemento di valutazione quindi questo sì chiarissimo in realtà mentre parlavi ultimamente un'altra domanda di solito non facciamo domande perché diventa una conversazione in freestyle però questa non me la volevo perdere perché è assolutamente interessante 7 per 8 è la più banale di tutte cerco di modificarla rispetto a due anni fa quando siete venuti cosa avete imparato sul vostro lavoro che all'epoca non avevate ancora imparato che vi ha permesso di ottenere dei risultati cioè nel senso proprio biecamente nel montaggio dei video mode che funzionano adesso innanzitutto vorrei segnalare quest'ottimo podcast dove vengono dove me vengono fatte delle domande originali di solito rispondiamo sempre alle stesse cose quindi bravi allora sicuramente nel lavoro soprattutto la parte più tecnica e operativa che svolgo io io ritengo che ci siano tanti mestieri messi insieme in nessuno mi sento arrivato e mi sento di poter dire adesso cacchio sono un figo in questa roba qua perché si vede anche nei nostri video che ci sono ancora un sacco di imperfezioni però devo anche ammettere che vedo un sacco di passi avanti rispetto ai primi video e sono molto contento di imparare questi mestieri tutti contemporaneamente insieme quindi un po' la regia un po' saper fare l'attore un po' scrivere i video il montaggio quindi mi sento molto cresciuto dal suo punto di vista banalmente lo vedo perché una volta ci mettevo una settimana a montare un video tra oggi e ieri ne ho montato uno in un giorno e mezzo perché ero preso bene quindi l'ho montato quasi al volo e alle volte mi stupisco dico cazzo ma ho già finito di montarlo siamo a martedì già passare a quello dopo perché sono ancora abituato che io ci metto una settimana a montare i video quindi questo sicuramente sì dal mio punto di vista quello su cui sto imparando un sacco è confrontarmi con la gente di settore con i ristoratori con un ambiente in cui noi non siamo dei tecnici stiamo imparando lo stiamo diventando piano piano a forza di esserci dentro con tutti e due i piedi e quindi da questo punto di vista come relazionarsi con con le persone abbiamo un piede abbiamo un piede un po' più dentro al mondo dove di cui parliamo rispetto a quando ci siamo visti l'altra volta esatto relazioni network relazioni network assolutamente migliorato ed è la ricchezza ma è una ricchezza non tanto ah sì perché conosco quello quindi gli posso chiedere un favore in realtà è più una ricchezza di proprio di relazione perché se io ho la possibilità di confrontarmi con delle persone cioè no guarda sai che stanotte io pensavo a questa cosa qua grazie a questo podcast che mi chiede tanta fatica lavoro a me a loro a un sacco di gente non guadagna soldi però mi dico cazzo che fortuna io se ho una questione posso chiamare un ospite che poi gli ospiti non so perché si trovano bene sono felici quando vengono qua si instaurano una relazione non so devo scrivere una cosa legata al mondo della spiritualità celtica cazzo chiamo lui e mi risponde è gratis mi dà una roba che prima non avrei potuto avere ho un problema legato a e si crea una relazione ma questo perché e mi rendo conto che quella roba lì non ha prezzo perché non puoi pagare nessun soldo per averla perché anche se tu sei milionario quello lì non sai che è quella lì la persona giusta quindi tu hai fatto un lavoro prima e sai che quella lì è la persona giusta quella persona lì ha una connessione valoriale con te perché è venuta nel tuo nel tuo mondo siete intersecati ci è stima reciproca e quindi lui in automatico ti dà perché si sente che ti vuole dare per aver piacere di dare è una roba meravigliosa però questo è anche gran merito vostro nel senso saper tenere in piedi un'intervista e gestire un podcast al di là delle attrezzature della parte tecnica la bravura secondo me sta nel creare empatia con chi ti porti al tavolo cioè poi sì c'è anche gli faccio la domanda figa che non gli ha fatto nessuno ok ma in realtà il fatto di trovarsi bene qua non è tanto perché mi ha fatto la domanda che volevo io a cui so rispondere ma perché si crea quell'empatia quella connessione e per quello che all'inizio ti dicevo ma viva i podcast dal vivo in presenza con la parte video e tutto perché poi è quello che anche crea empatia con chi guarda questo podcast su youtube rispetto a che magari sentire solo l'audio no? secondo me questo fa la differenza grazie grazie di cuore e che dire non diamo le vostre coordinate perché tanto oramai siete talmente famosi però insomma video di Giano e Franci li trovate su youtube cosa mangiamo oggi e non so se volete dare avete qualche altra qualche perla qualche appuntamento qualcosa che sta per uscire un libro per Mondador l'ha fatto tutti che cazzo non fate neanche il libro esatto c'è stato chiesto ogni domenica alle 11 nuovo video per ora siamo super easy super semplici no dai siamo stati veramente super bene ma quindi abbiamo finito io mi sembra che abbiamo iniziato 20 minuti no siamo a due ore siamo a due ore c'eravamo ripromessi di non superare più le due ore perché sennò poi la gente si spaventa e che con le tende non so se c'è ancora il giorno dopo nel frattempo figata ragazzi un botto di valore avete dato veramente grazie di cuore grazie a voi grazie a te faremo di tutto per far conoscere questa puntata al più persone possibile perché c'è veramente tanta 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 esperienza condivisa grazie grazie a voi ciao ci vediamo tra un anno e mezzo due anni tornate poi oramai appuntamento fisso bella ciao questo è il bazar atomico this was launch il bazar atomico ciao 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 ciao